Il Levitico, capitolo primo. Cert'è un olocausto di capi d'armento, offrirà un maschio senza difetto. L'offrirà all'ingresso della tenda di convegno per ottenere il favore dell'Eterno. Posserà la mano sulla testa dell'olocausto, il quale sarà accetto all'Eterno, per fare espiazione per lui. Poi scannerà il vitello davanti all'Eterno, e i sacerdoti, figliuoli di Aronne, offriranno il sangue e lo spargeranno tutto intorno sull'altare che è all'ingresso della tenda di convegno. Si trarrà quindi la pelle all'olocausto, e lo si taglierà a pezzi, e i figliuoli del sacerdote d'Aronne metteranno del fuoco sull'altare e accomoderanno delle legna sul fuoco. Poi i sacerdoti, figliuoli d'Aronne, disporranno quei pezzi, la testa e il grasso, sulle legna messe sul fuoco sovra l'altare, ma l'interiore e le gambe si laveranno con acqua, e il sacerdote farà fumare ogni cosa sull'altare come un olocausto, un sacrificio di soave odore, fatto mediante il fuoco all'Eterno. Se la sua offerta è un olocausto di capi di gregge, di pecore o di capre, offrirà un maschio senza difetto, lo scannerà dal lato setenzionale dell'altare davanti all'Eterno, e i sacerdoti, figliuoli d'Aronne, ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. Poi lo si taglierà a pezzi, che insieme con la testa e col grasso, il sacerdote disporrà sulle legna messe sul fuoco sopra l'altare. Ma l'interiore e le gambe si laveranno con acqua, e il sacerdote offrirà ogni cosa, e la farà fumare sull'altare. Questo è un olocausto, un sacrificio di soave odore, fatto mediante il fuoco all'Eterno. Se la sua offerta all'Eterno è un olocausto d'uccelli, offrirà delle tortere o dei giovani piccioni. Il sacerdote offrirà un sacrificio l'uccello sull'altare, gli spaccherà la testa e la farà fumare sull'altare, e il sangue d'esso sarà fatto scorrere sopra uno dei lati dell'altare. Poi gli toglierà il gozzo con quel che contiene, e getterà tutto al lato dell'altare verso oriente, nel luogo delle ceneri. Spaccherà quindi l'uccello per le ali, senza però dividerlo in due, e il sacerdote lo farà fumare sull'altare, sulle legna messe sopra il fuoco. Questo è un olocausto, un sacrificio di soave odore, fatto mediante il fuoco all'Eterno. Levitico, capitolo secondo Quando qualcuno presenterà all'Eterno come offerta un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina, vi verserà sopra dell'olio, e v'aggiungerà dell'incenso, e la porterà ai sacerdoti figliuoli da Ronne, e il sacerdote prenderà una manata piena di fior di farina spruzzata d'olio con tutto l'incenso, e farà fumare ogni cosa sull'altare come ricordanza. Questo è un sacrificio di soave odore, fatto mediante il fuoco all'Eterno. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Ronne e per i suoi figliuoli, e cosa santissima tra i sacrifici, fatta mediante il fuoco all'Eterno. E quando offrirai un'oblazione di cosa cotta in forno, ti servirai di focacce non lievitate di fior di farina impastate con olio, e di gallette senza lievito un tè d'olio, e se la tua offerta è un'oblazione cotta sulla gratella, sarà di fior di farina impastata con olio senza lievito. La farai a pezzi e vi verserai su dell'olio, è un'oblazione. E se la tua offerta è un'oblazione cotta in padella, sarà fatta di fior di farina con olio. Porterai all'Eterno l'oblazione fatta di queste cose, sarà presentata al sacerdote che la porterà sull'altare. Il sacerdote preleverà all'oblazione la parte che deve essere offerta come ricordanza, e la farà fumare sull'altare. È un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Ronne e per i suoi figlioli, e cosa santissima tra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. Qualunque oblazione offrirete all'Eterno sarà senza lievito, poiché non farete fumar nulla che contenga lievito o miele come sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Potrete offrirne all'Eterno come oblazioni di primizie, ma queste offerte non saranno poste sull'altare come offerte di soave odore. E ogni oblazione che offrirai la condirai con sale, e non lascerai la tua oblazione mancar di sale, segno del patto del tuo Dio, se tutte le tue offerte offrirai del sale. E se offri all'Eterno un'oblazione di primizie, offrirai come oblazione delle tue primizie delle spighe tostate al fuoco, chicchi di grano nuovo tritati, e vi porrai su dell'olio e vi aggiungerai dell'incenso. È un'oblazione. E il sacerdote farà fumare come ricordanza una parte del grano tritato e dell'olio, con tutto l'incenso. È un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Levitico capitolo terzo Quando uno offrirà un sacrificio di azioni di grazie, se offre capi, darmenti, un maschio o una femmina, offrirà senza difetto davanti all'Eterno, posserà la mano sulla testa della sua offerta, e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno, e i sacerdoti, figlioli d'Aronne, spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E di questo sacrificio di azioni di grazie, offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno, il grasso che copre l'interiore, e tutto il grasso che aderisce all'interiore. I due arnioni e il grasso che v'è sopra, e che copre i fianchi, e la rete del fegato, che staccherà vicino agli arnioni. E i figlioli d'Aronne faranno fumare tutto questo sull'altare, sopra l'olocausto che è sulle legne messe sul fuoco. Questo è un sacrificio di soave odore, fatto mediante il fuoco all'Eterno. E se l'offerta che egli fa come sacrificio di azioni di grazie all'Eterno è di capi di grege, un maschio o una femmina, l'offrirà senza difetto. Se presenta come offerta un agnello, l'offrirà davanti all'Eterno, poserà la mano sulla testa della sua offerta, e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno, e i figlioli di Aronne ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E di questo sacrificio di azioni di grazie, offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno, il grasso, tutta la coda che egli staccherà presso all'estremità della spina, il grasso che copre l'interiora e tutto il grasso che aderisce all'interiora. I due arnioni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnioni, e il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare, è un cibo offerto mediante il fuoco all'Eterno. Se la sua offerta è una capra, l'offra davanti all'Eterno, poserà la mano sulla testa della vittima, e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno, e i figliuoli d'Aronne ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno, e della vittima offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno il grasso che copre l'interiora e tutto il grasso che aderisce all'interiora, i due arnioni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnioni, e il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare. È un cibo di soave odore offerto mediante il fuoco. Tutto il grasso appartiene all'Eterno. Questa è una legge perpetua per tutte le vostre generazioni in tutti i luoghi dove abiterete. Non mangerete né grasso né sangue. Levitico, capitolo quarto L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo Parla ai figliuoli d'Israele di loro quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto alcuna delle cose che l'Eterno ha vietato di fare se il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e quelli che ha peccato rendendo per tal modo colpevole il popolo offrirà all'Eterno per il peccato commesso un giovenco senza difetto come sacrificio per il peccato e menerà il giovenco all'ingresso della tenda di convegno davanti all'Eterno poserà la mano sulla testa del giovenco e sgozzerà il giovenco davanti all'Eterno. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione prenderà del sangue del giovenco e lo porterà entro la tenda di convegno e il sacerdote intingerà il suo dito nel sangue e farà aspersione di quel sangue sette volte davanti all'Eterno di fronte al velo del santuario. Il sacerdote quindi metterà di quel sangue sui corni dell'altare del profumo fragrante altare che è davanti all'Eterno nella tenda di convegno e spanderà tutto il sangue del giovenco a piede dell'altare degli olocausti che è all'ingresso della tenda di convegno e torrà dal giovenco del sacrificio per il peccato tutto il grasso il grasso che copre l'interiora e tutto il grasso che aderisce all'interiora i due arnioni e il grasso che ve sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnioni nello stesso modo che queste parti si tolgano dal bue del sacrificio di azioni di grazie e il sacerdote le farà fumare sull'altare degli olocausti ma la pelle del giovenco e tutta la sua carne con la sua testa, le sue gambe, le sue interiore e i suoi escrementi il giovenco intero lo porterà fuori del campo in un luogo puro dove si gettano le ceneri e lo brucerà col fuoco su delle legna sarà bruciato sul mucchio delle ceneri se tutta la radunanza di Israele ha peccato per errore e senza accorgersene e ha fatto alcuna delle cose che l'Eterno ha vietato di fare e si è così resa colpevole quando il peccato che ha commesso venga ad essere conosciuto la radunanza offrirà come sacrificio per il peccato un giovenco e lo menerà davanti alla tenda di convegno gli anziani della radunanza posteranno le mani sulla testa del giovenco davanti all'Eterno e il giovenco sarà sgozzato davanti all'Eterno poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione porterà del sangue del giovenco entro la tenda di convegno e il sacerdote intingerà il dito nel sangue e ne farà l'aspersione sette volte davanti all'Eterno di fronte al velo e metterà di quel sangue sui corni dell'altare che davanti all'Eterno nella tenda di convegno espanderà tutto il sangue a piede dell'altare dell'olocausto che è all'ingresso della tenda di convegno e torrà dal giovenco tutto il grasso e lo farà fumare sull'altare farà di questo giovenco come ha fatto del giovenco offerto per il peccato così il sacerdote farà l'espiazione per la radunanza e le sarà perdonato poi porterà il giovenco fuori del campo e lo brucerà come ha bruciato il primo giovenco questo è il sacrificio per il peccato della radunanza se uno dei capi ha peccato e ha fatto per errore alcuna di tutte le cose che l'Eterno lì Dio suo ha vietato di fare e si è reso colpevole quando il peccato che ha commesso gli sarà fatto conoscere condurrà come sua offerta un becco come maschio fra le capre senza difetto poserà la mano sulla testa del becco e lo scannerà nel luogo dove si scannano gli olocausti davanti all'Eterno è un sacrificio per il peccato poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue del sacrificio per il peccato e lo metterà sui corni dell'altare degli olocausti e spanderà il sangue del becco a pie dell'altare dell'olocausto e farà fumare tutto il grasso del becco sull'altare come ha fatto del grasso del sacrificio di azioni di grazie così il sacerdote farà l'espiazione del peccato di lui e gli sarà perdonato e se qualcuno del popolo del paese pecherà per errore e farà alcuna delle cose che l'Eterno ha vietato di fare rendendosi così colpevole quando il peccato che ha commesso gli sarà fatto conoscere dovrà condurre come sua offerta una capra una femmina senza difetto per il peccato che ha commesso poserà la mano sulla testa del sacrificio per il peccato e sgozzerà il sacrificio per il peccato nel luogo dove si sgozzano gli olocausti poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue della capra e lo metterà sui corni dell'altare dell'olocausto e spanderà tutto il sangue della capra a pie dell'altare e torrà tutto il grasso della capra come ha tolto il grasso del sacrificio di azioni di grazie e il sacerdote lo farà fumare sull'altare come un suave odore all'Eterno così il sacerdote farà l'espiazione per quel tale e gli sarà perdonato e se colui condurrà un agnello come un sacrificio per il peccato dovrà condurre una femmina senza difetto poserà la mano sulla testa del sacrificio per il peccato e lo sgozzerà come sacrificio per il peccato nel luogo dove si sgozzano gli olocausti poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue del sacrificio per il peccato e lo metterà sui corni dell'altare dell'olocausto e spanderà tutto il sangue della vittima a pie dell'altare e torrà dalla vittima tutto il grasso come si toglie il grasso dell'agnello del sacrificio di azioni di grazia e il sacerdote lo farà fumare sull'altare sui sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato quando una persona dopo aver udito dal giudice la formula del giuramento nella sua qualità di testimonio pecca non dichiarando ciò che ha veduto o altrimenti conosciuto porterà la pena della sua iniquità o quando uno senza saperlo avrà toccato qualche cosa di impuro come il cadavere di una bestia salvatica impura o il cadavere di un animale domestico impuro o quello di un rettile impuro rimarrà egli stesso impuro e colpevole o quando senza saperlo toccherà un'impurità umana una qualunque delle cose per le quali l'uomo diventa impuro allorché viene a saperlo e colpevole o quando uno senza abadarvi parlando leggermente con le labbra avrà giurato come uno di quei giuramenti che gli uomini sogliono proferire alla leggera di fare qualche cosa di male o di bene allorché viene ad accorgersene è colpevole quando uno dunque si sarà reso colpevole d'una di queste cose confesserà il peccato che ha commesso recherà l'Eterno come sacrificio della sua colpa per il peccato che ha commesso una femmina del greggio, una pecora, una capra come sacrificio per il peccato e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato se non ha mezzi di procurarsi una pecora o una capra porterà all'Eterno come sacrificio della sua colpa per il suo peccato due tortore o due giovani piccioni uno come sacrificio per il peccato l'altro come olocausto e li porterà al sacerdote il quale offrirà prima quello per il peccato gli spaccherà la testa vicino alla nuca ma senza staccarla del tutto poi spargerà del sangue del sacrificio per il peccato sopra uno dei lati dell'altare e il resto del sangue sarà sprenuto a piede dell'altare questo è un sacrificio per il peccato dell'altro uccello farà un olocausto secondo le norme stabilite così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato ma se non ha mezzi da procurarsi due tortore o due giovani piccioni porterà come sua offerta per il peccato che ha commesso la decima parte di un effa di fior di farina come sacrificio per il peccato e non vi metterà su né olio né incenso perché è un sacrificio per il peccato porterà la farina al sacerdote e il sacerdote ne prenderà una manata piena come ricordanza e la farà fumare sull'altare sopra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'eterno è un sacrificio per il peccato così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso in uno dei quei casi e gli sarà perdonato il resto della farina sarà per il sacerdote come si fa nell'ovlazione e l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo quando uno commetterà un'infedeltà e peccherà per errore relativamente a ciò che deve essere consacrato all'eterno porterà all'eterno come sacrificio di riparazione un montone senza difetto preso dal gregge secondo la tua stima in cicli d'argento a ciclo di santuario come sacrificio di riparazione e risascera il danno fatto al santuario aggiungendovi un quinto in più e lo darà al sacerdote e il sacerdote farà per lui l'espiazione col montone offerto come sacrificio di riparazione e gli sarà perdonato e quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che l'eterno ha vietato di fare sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità presenterà al sacerdote come sacrificio di riparazione un montone senza difetto preso dal gregge secondo la tua stima e il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per ignoranza e gli sarà perdonato questo è un sacrificio di riparazione quel tale si è realmente reso colpevole verso l'eterno levitico capitolo sesto e l'eterno parlò a mosè dicendo quando uno peccherà e commetterà un'infedeltà verso l'eterno negando al suo prossimo un deposito da lui ricevuto o un pegno messo nelle sue mani o una cosa che ha rubato o è storta con frode al prossimo o una cosa perduta che ha trovata e mentendo a questo proposito e giurando il falso circa una delle cose nelle quali l'uomo può peccare quando avrà così peccato e si sarà reso colpevole restituirà la cosa rubata o è storta con frode o il deposito che gli era stato confidato o l'oggetto perduto che ha trovato o qualunque cosa circa la quale abbia giurato il falso ne farà la restituzione per intero e v'aggiungerà un quinto in più consegnandola al proprietario il giorno stesso che offrirà il suo sacrificio di riparazione e porterà al sacerdote il suo sacrificio di riparazione all'eterno un montone senza difetto presso dal gregge secondo la tua stima come sacrificio di riparazione e il sacerdote farà l'espiazione per lui davanti all'eterno ed i sarà perdonato qualunque sia la cosa di cui si è reso colpevole e l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo dà quest'ordine ad Aronne e ai suoi figlioli e di loro questa è la legge dell'olocausto l'olocausto rimarrà sulle legne accese sopra l'altare tutta la notte fino al mattino e il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso il sacerdote si vestirà della sua tunica di lino e si metterà sulla carne e le bracche leverà la cenere fatta dal fuoco che avrà consumato l'olocausto sull'altare e la porterà al lato dell'altare poi si spoglierà delle vesti e ne indosserà delle altre e porterà la cenere fuori del campo in un luogo puro il fuoco sarà mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spengere e il sacerdote vi brucerà su delle legne ogni mattina vi disporrà sopra l'olocausto e vi farà fumare sopra il grasso dei sacrifici di azione di grazie il fuoco deve essere del continuo mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spengere questa è la legge dell'oblazione e i figlioli d'Aronne offriranno davanti all'eterno dinanzi all'altare si leverà una manata di fior di farina con il suo olio e tutto l'incenso che è sull'oblazione e si farà fumare ogni cosa sull'altare in sacrificio di soave odore come una ricordanza per l'eterno Aronne e i suoi figlioli mangeranno quel che rimarrà dell'oblazione la si mangerà senza lievito in luogo santo la mangeranno nel cortile della tenda di convegno non la si cuocerà con lievito è la parte che ho data loro dei miei sacrifici fatta mediante il fuoco è cosa santissima come il sacrificio per il peccato e come il sacrificio di riparazione ogni maschio tra i figlioli d'Aronne ne potrà mangiare è una parte perpetua assegnatevi di generazione in generazione sui sacrifici fatti mediante il fuoco all'eterno chiunque toccherà quelle cose dovrà essere santo e l'eterno parlo ancora a Mosè dicendo questa è offerta che Aronne e i suoi figlioli faranno all'eterno il giorno che riceveranno l'unzione un decimo defa di fior di farina come oblazione perpetua metà la mattina e metà la sera essa sarà preparata con olio sulla gratella la porterai quando sarà finita l'offrirai in pezzi come l'offerta divisa di soave odore all'eterno e il sacerdote che tra i figlioli d'Aronne sarà unto per succedergli farà anche egli questa offerta è la parte assegnata in perpetua all'eterno sarà fatta fumare per intero ogni oblazione del sacerdote sarà fatta fumare per intero e non sarà mangiata l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo parla ad Aronne e ai suoi figlioli e di loro questa è la legge del sacrificio per il peccato del luogo dove si sgozza l'olocausto sarà sgozzata davanti all'eterno la vittima per il peccato è cosa santissima il sacerdote che l'offrirà per il peccato la mangerà dovrà essere mangiata in luogo santo nel cortile della tenda di convegno chiunque ne toccherà la carne dovrà essere santo e se ne schizza del sangue sopra una veste il posto dove sarà schizzato il sangue lo laverai in luogo santo ma il vaso di terra che avrà servito a cuocerla sarà spezzato e se è stata cotta in un vaso di rame questo si strofinerà e si sciacquerà con acqua ogni maschio fra i sacerdoti ne potrà mangiare è cosa santissima ma non si mangerà alcuna vittima per il peccato quando si deve portare del sangue d'essa nella tenda di convegno per fare l'espiazione nel santuario essa sarà bruciata col fuoco Levitico capitolo settimo questa è la legge del sacrificio di riparazione è cosa santissima nel luogo dove si scanna l'olocausto si scannerà la vittima di riparazione e se ne spanderà il sangue sull'altare tutto intorno se ne offrirà tutto il grasso la coda il grasso che copre l'interiore i due arnioni il grasso che ve sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che si staccherà vicino agli arnioni il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare come un sacrificio fatto mediante il fuoco all'eterno questo è un sacrificio di riparazione ogni maschio tra i sacerdoti ne potrà mangiare lo si mangerà in luogo santo è cosa santissima il sacrificio di riparazione è come il sacrificio per il peccato la stessa legge vale per ambe due la vittima sarà del sacerdote che farà l'espiazione il sacerdote che offrirà l'olocausto per qualcuno avrà per sé la pelle dell'olocausto che avrà offerto così pure ogni oblazione cotta in forno o preparata in padella o sulla gratella sarà del sacerdote che l'ha offerta e ogni oblazione impastata con olio o asciutta sarà per tutti i figliuoli di Aronne per l'uno come per l'altro questa è la legge del sacrificio di azioni di grazie che si offrirà all'eterno se uno l'offre per riconoscenza offrirà col sacrificio di azioni di grazie delle focacce senza lievito intrise con olio delle gallette senza lievito unte con olio e del fior di farina cotto in forma di focacce intrinse con l'olio presenterà anche per la sua offerta oltre quelle focacce delle focacce di panni evitato insieme col suo sacrificio di riconoscenze e di azioni di grazie d'ognuna di queste offerte si presenterà una parte come oblazione elevata all'eterno essa sarà del sacerdote che avrà fatto l'aspersione del sangue del sacrificio di azioni di grazie e la carne del sacrificio di riconoscenze e di azioni di grazie sarà mangiata il giorno stesso che è offerto e non se ne lascerà fino alla mattina ma se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario la vittima sarà mangiata il giorno che l'offrirà e quel che ne rimarrà dovrà essere mangiato l'indomani ma quel che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno dovrà bruciarsi col fuoco che se uno mangia della carne col suo sacrificio di azioni di grazie il terzo giorno colui che l'ha offerto non sarà gradito e dell'offerta non gli sarà tenuto conto sarà cosa avorrita e colui che ne avrà mangiato porterà la pena della sua iniquità la carne che sarà stata in contatto di qualche cosa di impuro non sarà mangiata sarà bruciata col fuoco quanto alla carne che si mangia chiunque è puro ne potrà mangiare ma la persona che essendo impura mangerà della carne del sacrificio di azioni di grazia che appartiene all'Eterno sarà sterminata di fra il suo popolo e se uno toccherà qualcosa di impuro una impurità umana o un animale impuro o qualsivoglia cosa abominevole immonda e mangerà della carne del sacrificio di azioni di grazia che appartiene all'Eterno quel tale sarà sterminato di fra il popolo e l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele di loro non mangerete alcun grasso né di bue né di pecora né di capra il grasso di una bestia morta da sé o il grasso di una bestia sbranata potrà servire per qualunque altro uso ma non ne mangerete affatto poiché chiunque mangerà del grasso degli animali che si offrono in sacrificio mediante il fuoco all'Eterno quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo e non mangerete affatto alcun sangue né di uccelli né di quadrupedi in tutti i luoghi che abiterete chiunque mangerà sangue di qualunque specie sarà sterminato di fra il suo popolo e l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele e di loro colui che offrirà all'Eterno il suo sacrificio di azioni di grazie porterà la sua offerta all'Eterno prelevandola dal suo sacrificio di azioni di grazie porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto all'Eterno mediante il fuoco porterà il grasso insieme col petto il petto per agitarlo come l'offerta agitata davanti all'Eterno il sacerdote farà fumare il grasso sull'altare e il petto sarà darone dei suoi figlioli darete pure al sacerdote come offerta elevata la coscia destra dei vostri sacrifici di azioni di grazie colui dei figlioli darone che offrirà il sangue e il grasso dei sacrifici di azioni di grazie avrà come sua parte la coscia destra poiché dei sacrifici di azioni di grazie offerti dai figlioli di Israele io prendo il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata e li do al sacerdote Aronne e ai suoi figlioli per legge perpetua da osservarsi dai figlioli di Israele questa è la parte consacrata d'Aronne e consacrata ai suoi figlioli dei sacrifici fatti mediante il fuoco all'eterno dal giorno in cui saranno presentati per esercitare il sacerdozio all'eterno questo l'eterno ha ordinato ai figlioli di Israele di fare loro dal giorno della loro unzione è una parte che è loro dovuta in perpetuo di generazione in generazione questa è la legge dell'olocausto dell'oblazione del sacrificio per il peccato del sacrificio di riparazione della consacrazione e del sacrificio di azioni di grazie legge che l'eterno dette a Mosè sul monte Sinai il giorno che ordinò ai figlioli di Israele di presentare le loro offerte all'eterno nel deserto di Sinai Levitico capitolo ottavo l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo prendi Aronne e i suoi figlioli con lui i paramenti l'olio dell'unzione il giovenco del sacrificio per il peccato i due montoni e il paniere dei pani e zimi e convoca tutta la radunanza all'ingresso della tenda di convegno e Mosè fece come l'eterno gli aveva ordinato e la radunanza fu convocata all'ingresso della tenda di convegno e Mosè disse alla radunanza questo è quello che l'eterno ha ordinato di fare e Mosè fece accostare Aronne i suoi figlioli e li lavò con acqua poi rivestì Aronne della tunica lo cinse della cintura e gli pose addosso il manto gli mise l'efod e lo cinse della cintura artistica dell'efod con la quale gli fissò l'efod addosso gli mise pure il pettorale e sul pettorale pose l'urin e il tummim poi gli mise in capo la mitra e sul davanti della mitra pose la lamina d'oro il santo diadema come l'eterno aveva ordinato a Mosè poi Mosè prese l'olio dell'unzione unse il tabernacolo e tutte le cose che si trovavano e lo consacrò e ne fece sette volte la spersione sull'altare unse l'altare e tutti i suoi utensili e la conca e la sua base per consacrarli e versò dell'olio dell'unzione sul capo d'Aronne ed unse Aronne per consacrarlo poi Mosè fece accostare i figlioli d'Aronne li vestì di tuniche li cinse di cinture e assicurò sul loro capo delle tiare come l'eterno aveva ordinato a Mosè fece quindi accostare il giovenco del sacrificio per il peccato e Aronne e i suoi figlioli posarno le loro mani sulla testa del giovenco del sacrificio per il peccato Mosè lo scannò e prese del sangue lo mise col dito sui corni dell'altare tutto all'intorno e purificò l'altare poi sparse il resto del sangue a piede dell'altare e lo consacrò per farvi sull'espiazione poi prese tutto il grasso che era sull'interiore alla rete del fegato e gli orgnoni con il loro grasso e Mosè fece fumare tutto sull'altare ma il giovenco e la sua pelle e la sua carne e i suoi escrementi li bruciò col fuoco fuori del campo come l'Eterno aveva ordinato a Mosè fece quindi accostare il montone dell'olocausto e Aron e i suoi figlioli possarono le mani sulla testa del montone e Mosè lo scannò e ne sparse il sangue sull'altare tutto all'intorno poi fece a pezzi il montone e Mosè fece fumare la testa i pezzi e il grasso e quando ne ebbe lavato l'interiore e le gambe con l'acqua Mosè fece fumare tutto il montone sull'altare fu un olocausto di soavo odore un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno come l'Eterno aveva ordinato a Mosè poi fece accostare il secondo montone il montone della consacrazione e Aron e i suoi figlioli possarono le mani sulla testa del montone e Mosè lo scannò e ne prese del sangue e lo mise sull'estremità dell'orecchio destro da Ronne e sul pollice della sua man destra e sul dito grosso del suo piede destro poi Mosè fece accostare i figlioli da Ronne e posse di quel sangue sull'estremità del loro orecchio destro sul pollice della loro man destra e sul dito grosso del loro piede destro e sparse il resto del sangue sull'altare tutto intorno poi prese il grasso la coda e tutto il grasso che copriva l'interiora la rete del fegato i due arnioni il loro grasso e la coscia destra e del paniere dei pani azimi che era davanti all'eterno prese una focaccia senza lievito una focaccia di pastoliata e una galletta e le pose sui grassi e sulla coscia destra poi mise tutte queste cose sulle palme delle mani d'Aronne sulle palme delle mani dei suoi figlioli e le agitò come offerta agitata davanti all'eterno Mosè quindi prese dalle loro mani e le fece fumare sull'altare sopra l'olocausto fu un sacrificio di consacrazione di soavo odore un sacrificio fatto mediante il fuoco all'eterno poi Mosè prese il petto del montone e lo agitò come offerta agitata davanti all'eterno questa fu la parte del montone della consacrazione che toccò a Mosè come l'eterno aveva ordinato a Mosè Mosè prese quindi dell'olio dell'unzione e del sangue che era sopra l'altare e ne asperse Aronne e i suoi paramenti i figlioli di lui e i loro paramenti e consacrò Aronne e i suoi paramenti i figlioli di lui e i loro paramenti con lui poi Mosè disse ad Aronne e ai suoi figlioli fate cuocere la carne all'ingresso della tenda di convegno e qui vi la mangerete col pane che è nel paniere della consacrazione come ho ordinato dicendo a Aronne e i suoi figlioli la mangeranno e quel che rimane della carne e del pane lo brucerete col fuoco e per sette giorni non vi dipartirete dall'ingresso della tenda di convegno finché non siano compiuti i giorni delle vostre consacrazioni perché la vostra consacrazione durerà sette giorni come se fatto oggi così l'Eterno ordinato che si faccia per fare espiazione per voi rimarrete dunque sette giorni all'ingresso della tenda di convegno giorno e notte e osserverete il comandamento dell'Eterno affinché non muoiate poiché così m'è stato ordinato e Aronne e i suoi figlioli fescero tutte le cose che l'Eterno aveva ordinato per mezzo di Mosè Levitico capitolo nono l'ottavo giorno Mosè chiamò Aronne i suoi figlioli e le anziani di Israele e disse ad Aronne prendi un giovane vitello per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto ambe due senza difetto e offrili all'Eterno e dirai così ai figlioli di Israele prendete un capro per un sacrificio per il peccato e un vitello e un agnello ambe due d'un anno senza difetto per un olocausto e un bue e un montone per un sacrificio di azioni di grazie e per un sacrificio davanti all'Eterno e un'oblazione intrinza con olio perché oggi l'Eterno vi apparirà e si dunque menarono davanti alla tenda di convegno le cose che Mosè aveva ordinate e tutta la radunanza si accostò e si tenne in pie davanti all'Eterno e Mosè disse questo è quello che l'Eterno vi ha ordinato fatelo e la gloria dell'Eterno vi apparirà e Mosè disse ad Aronne accostati all'altare offre il tuo sacrificio per il peccato e il tuo olocausto e fa l'espiazione per te e per il popolo presenta anche l'offerta del popolo e fa l'espiazione per esso come l'Eterno ha ordinato Aronne dunque si accostò all'altare e scannò il vitello del sacrificio per il peccato che era per sé e i suoi figlioli gli posero il sangue ed egli intinse il dito nel sangue e ne mise sui corni dell'altare e sparse il resto del sangue a piede dell'altare ma il grasso gli arnioni e la rete del fegato della vittima per il peccato li fece fumare sull'altare come l'Eterno aveva ordinato a Mosè e la carne e la pelle le bruciò col fuoco fuori del campo poi scannò l'olocausto e i figlioli d'Aron gli porsero il sangue ed egli lo sparse sull'altare tutto all'intorno gli porsero pure l'olocausto fatto a pezzi e la testa ed egli li fece fumare sull'altare e levò l'interiore e le gambe le fece fumare sull'olocausto sopra l'altare poi presentò l'offerta del popolo prese il capro destinato al sacrificio per il peccato del popolo lo scannò e lo offrì per il peccato come la prima volta poi offrì l'olocausto e lo fece secondo la regola stabilita presentò quindi l'oblazione ne prese una manata piena e la fece fumare sull'altare oltre l'olocausto della mattina scannò il bue e il montone come sacrificio di azioni di grazie per il popolo e figliuoli d'Aronne gli porsero il sacrificio ed egli lo sparse sull'altare tutto all'intorno gli porsero i grassi del bue e del montone la coda e il grasso che copre l'interiora gli arnioni e la rete del fegato misero i grassi sui petti e gli fece fumare grassi sull'altare e i petti e la coscia destra Aronne li agitò davanti all'eterno come offerta agitata nel modo che Mosè aveva ordinato poi Aronne arsò le mani verso il popolo e lo benedisse e dopo aver fatto il sacrificio per il popolo l'olocausto e i sacrifici di azioni e di grazie scese giù dall'altare e Mosè ed Aronne entrarono nella tenda di convegno poi uscirono e benedissero il popolo e la gloria dell'eterno apparve a tutto il popolo un fuoco uscì dalla presenza dell'eterno e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi e tutto il popolo lo vide via in grida di risultanza e si prostrò con la faccia a terra Levitico capitolo decimo Or Nadab e Abihu figlioli d'Aronne pressero ciascuno il suo turibolo vi misero dentro del fuoco vi possero su del profumo e l'offrirono davanti all'eterno del fuoco estraneo il che egli non aveva loro ordinato e un fuoco uscì dalla presenza dell'eterno e li divorò morirono davanti all'eterno allora Mosè disse ad Aronne questo è quello di cui l'eterno ha parlato quando ha detto io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo e Aronne si tacque e Mosè chiamò Mishael e El Safan figlioli di Usiel zio d'Aronne e disse loro accostatevi portatevi ai vostri fratelli davanti al santuario fuori del campo ed essi si accostarono e li portaron via nelle loro tuniche fuori del campo come Mosè aveva detto Mosè disse ad Aronne e a Eleazar e a Itmar suoi figlioli non andate a capo scoperto e non vi stracciate le vesti affinché non muoiate e l'eterno non sa diri contro tutta la radunanza ma i vostri fratelli tutta quanta la casa di Israele menino duolo a motivo dell'arsione che l'eterno ha fatto e non vi dipartite dall'ingresso della tenda di convegno onde non abbiate a perire poiché l'olio dell'unzione dell'eterno è su voi ed essi fecero come Mosè aveva detto e l'eterno parlò ad Aronne dicendo non bevete vino né bevande alcoliche tu e i tuoi figlioli quando entrerete nella tenda di convegno affinché non muoiate sarà una legge perpetua di generazione in generazione e questo perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano e ciò che è impuro da ciò che è puro e possiate insegnare ai figlioli di Israele tutte le leggi che l'eterno ha dato loro per mezzo di Mosè poi Mosè disse ad Aronne ed Elisar e a Itmar i suoi figlioli che restavano ad Aronne prendete quel che rimane dell'oblazione dei sacrifici fatti mediante il fuoco all'eterno e mangiatelo senza lievito presso l'altare perché è cosa santissima lo mangerete in luogo santo perché è la parte che aspetta a te e ai tuoi figlioli dei sacrifici fatti mediante il fuoco all'eterno poiché così mi è stato ordinato e il petto dell'offerta citata e la coscia dell'offerta elevata le mangerete tu i tuoi figlioli e le tue figliole con te in luogo puro perché vi sono stati dati come parte aspettante a te e ai tuoi figlioli dei sacrifici di azioni di grazie dei figlioli di Israele oltre ai grassi da ardere si porteranno la coscia dell'offerta elevata e il petto dell'offerta agitata per essere agitati davanti all'eterno come offerta agitata anche questo appartiene a te e ai tuoi figlioli con te per diritto perpetuo come l'eterno ordinato or Mosè cercò e ricercò il capo del sacrificio per il peccato ed ecco era stato bruciato onde gli sadirò gravemente contro Eliezar e contro Itmar i figlioli che erano rimasti ad Aronne dicendo perché non avete mangiato il sacrificio per il peccato nel luogo santo giacché cosa santissima e l'eterno va dato perché portiate l'iniquità della riadunanza perché ne facciate l'espiazione davanti all'eterno ecco il sangue della vittima non è stato portato dentro il santuario voi avreste dovuto mangiarla nel santuario come io avevo ordinato ed Aronne disse a Mosè ecco oggi essi hanno offerto il loro sacrificio per il peccato e il loro olocausto davanti all'eterno e dopo le cose che mi sono successe se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio per il peccato sarebbe ciò piaciuto all'eterno quando Mosè udì questo rimase soddisfatto il levitico capitolo undicesimo poi l'eterno parlò a Mosè ad Aronne dicendo loro parlate così ai figlioli di Israele questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra mangerete d'ogni animale che ha l'unghia spartite e ha il pie forcuto e che rumina ma di fra quelli che ruminano e di fra quelli che hanno l'unghia spartita non mangerete questi il cammello perché rumina ma non ha l'unghia spartita lo considererete come impuro il coniglio perché rumina ma non ha l'unghia spartita lo considererete come impuro la lepre perché rumina ma non ha l'unghia spartita la considererete come impura il porco perché ha l'unghia spartita e il pie forcuto ma non rumina lo considererete come impuro non mangerete della loro carne e non toccherete i loro corpi morti li considererete come impuri questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutti quelli che sono nell'acqua mangerete tutto ciò che ha pinne e scaglie nelle acque tanto nei mari quanto nei fiumi ma tutto ciò che non ha né pinne né scaglie tanto nei mari quanto nei fiumi tra tutto ciò che si muove nelle acque tutto ciò che vive nelle acque l'avrete in abominio essi vi saranno in abominio non mangerete della loro carne e avrete in abominio i loro corpi morti tutto ciò che non ha né pinne né scaglie nelle acque vi sarà in abominio e fra gli uccelli avrete in abominio questi non se ne mangi sono un abominio l'aquila lo sifraga l'aquila di mare il nibbio ed ogni specie di falco ogni specie di corvo lo struzzo il barbagianne il gabbiano ed ogni specie di sparviere il gufo lo smergo l'ibi il cigno il pellicano l'avvoltoio la cicogna ogni specie di airone l'upupa e il pipistrello vi sarà pure in abominio ogni insetto alato che cammina su quattro piedi però fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi mangerete quelli che hanno le gambe al di sopra dei piedi per saltare sulla terra di questi potete mangiare ogni specie di cavalletta ogni specie di solam ogni specie di argol ogni specie di agab ogni altro insetto alato che ha quattro piedi vi sarà in abominio questi animali vi renderanno impuri chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera e chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera considererete come impuro ogni animale che ha l'unghia spartita ma non ha il pie forcuto e che non rumina chiunque lo toccherà sarà impuro considererete come impuri tutti i quadrupedi che camminano sulla pianta dei piedi chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera e chiunque porterà i loro corpi si laverà le vesti e sarà immondo fino alla sera questi animali considererete come impuri e fra i piccoli animali che strisciano sulla terra considererete come impuri questi la talpa il topo e ogni specie di lucertola il topo ragno e la rana la tartaruga la lumaca e il camaleonte questi animali fra tutto ciò che striscia saranno impuri per voi chiunque li toccherà morti sarà impuro fino alla sera ogni oggetto sul quale cadrà a qualcun d'essi quando sarà morto sarà immondo siano utensili di legno o vesti o pelle o sacco o qualunque altro oggetto di cui si faccia uso sarà messo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera poi sarà puro e se ne cade qualcuno in un vaso di terra tutto quello che vi si trova dentro sarà impuro e spezzerete il vaso ogni cibo che serve al nutrimento sul quale sarà caduta di quell'acqua sarà impuro e ogni bevanda di cui si fa uso qualunque sia il vaso che la contiene sarà impura ogni oggetto sul quale cadrà qualcosa del loro corpo morto sarà impuro il forno o il fornello sarà spezzato sono impuri e li considererete come impuri però una fonte o una cisterna dov'è una raccolta d'acqua sarà pura ma chi toccherà i loro corpi morti sarà impuro e se qualcosa dei loro corpi morti cade su qualche seme che deve essere seminato questo sarà puro ma se è stata messa dell'acqua sul seme e vi cade su qualcosa dei loro corpi lo considererai come impuro se muore un animale di quel che vi servono per nutrimento colui che ne toccherà il corpo sarà impuro fino alla sera colui che mangerà di quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera parimente colui che porterà quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera ogni cosa che brulica sulla terra è un abominio e non se ne mangerà di tutti gli animali che brulicano sulla terra non ne mangerete alcuno che strisci sul ventre o cammini con quattro piedi o con molti piedi poiché sono un abominio non renderete le vostre persone abominevoli mediante alcuno di questi animali che strisciano e non vi renderete impuri per loro mezzo in guisa da rimanere così contaminati poiché io sono l'eterno il Dio vostro santificatevi dunque siate santi perché io sono santo e non contaminate le vostre persone mediante alcuno di questi animali che strisciano sulla terra poiché io sono l'eterno che vi ho fatti salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio siate dunque santi perché io sono santo questa è la legge concernente i quadrupedi gli uccelli ogni essere vivente che si muove nelle acque e ogni essere che striscia sulla terra affinché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro l'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare Levitico capitolo dodicesimo l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo parla così ai figlioli di Israele quando una donna sarà rimasta incinta e partorirà un maschio sarà impura sette giorni sarà impura come nel tempo dei suoi corsi mensuali l'ottavo giorno si circonciderà la carne del prepulso del bambino poi ella resterà ancora trentatré giorni a purificarsi del suo sangue e non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione ma se partorisce una bambina sarà impura due settimane come al tempo dei suoi corsi mensuali e resterà sessantasei giorni a purificarsi del suo sangue e quando i giorni della sua purificazione per un figliolo o per una figliola saranno compiuti porterà al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno un agnello d'un anno come olocausto e un giovane piccione o una tortora come sacrificio per il peccato e il sacerdote li offrirà davanti all'eterno e farà l'espiazione per lei ed ella sarà purificata del flusso del suo sangue questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina e se non ha mezzi da offrire un agnello prenderà due tortore o due giovani piccioni uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio per il peccato il sacerdote farà l'espiazione per lei ed ella sarà pura levitico capitolo tredicesimo l'eterno parlò ancora a Mosè e ad Aronne dicendo quando uno avrà sulla pelle del suo corpo un tumore o una pustola o una macchia lucida che sia sintomo di piaga di lebra sulla pelle del suo corpo quel tale sarà menato al sacerdote Aronne o a uno dei suoi figliuoli sacerdoti il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo e se il pelo della piaga è diventato bianco e la piaga appare più profonda della pelle del corpo è piaga di lebra e il sacerdote che l'avrà esaminato dichiarerà quell'uomo impuro ma se la macchia lucida sulla pelle del corpo è bianca e non appare essere più profonda della pelle e il suo pelo non è diventato bianco il sacerdote rinchiuderà per sette giorni colui che ha la piaga il sacerdote il settimo giorno lo esaminerà e se gli parrà che la piaga si sia fermata e non si sia largata sulla pelle il sacerdote lo rinchiuderà altri sette giorni il sacerdote il settimo giorno lo esaminerà di nuovo e se vedrà che la piaga non è più lucida e non si è allargata sulla pelle il sacerdote dichiarerà quell'uomo puro è una pustola quel tale avrà le sue vesti e sarà puro ma se la pustola si è allargata sulla pelle dopo che egli si è mostrato al sacerdote per essere dichiarato puro e si farà esaminare per la seconda volta dal sacerdote il sacerdote l'esaminerà e se vedrà che la pustola si è allargata sulla pelle il sacerdote lo dichiarerà impuro è lebra e quando uno avrà addosso una piaga di lebra sarà condotto al sacerdote il sacerdote lo esaminerà e se vedrà che sulla pelle c'è un tumor bianco che questo tumore ha fatto imbiancare il pelo che vè nel tumore della carne viva è lebra inveterata nella pelle del corpo di colui e il sacerdote lo dichiarerà impuro non lo rinchiuderà perché è impuro e se la lebra produce delle efflorescenze sulla pelle in modo da coprire tutta la pelle di colui che ha la piaga dal capo ai piedi dovunque il sacerdote guardi il sacerdote lo esaminerà e quando avrà veduto che la lebra copre tutto il corpo dichiarerà puro colui che ha la piaga egli è divenuto tutto quanto bianco quindi è puro ma dal momento che apparirà in lui della carne viva sarà dichiarato impuro quando il sacerdote avrà visto la carne viva dichiarerà quell'uomo impuro la carne viva è impura è lebra ma se la carne viva ridiventa bianca vada colui al sacerdote e il sacerdote lo esaminerà e se vedrà che la piaga è diventata bianca e il sacerdote dichiarerà puro colui che ha la piaga è puro quando uno avrà avuto sulla pelle della carne un'ulcera che sia guarita e poi sul luogo dell'ulcera apparirà un tumore bianco o una macchia lucida bianca tendente al rosso quel tale si mostrerà al sacerdote il sacerdote esaminerà e se vedrà che la macchia apparisce più profonda della pelle e che il pelo ne è diventato bianco il sacerdote lo dichiarerà impuro e piaga di lebra che è scoppiata nell'ulcera ma se il sacerdote esaminandola vede che nella macchia non ci sono dei peli bianchi e che non è più profonda della pelle e non è più lucida il sacerdote lo rinchiuderà sette giorni e se la macchia s'allarga sulla pelle il sacerdote lo dichiarerà impuro e piaga di lebra ma se la macchia è rimasta allo stesso punto e non si è allargata è la cicatrice dell'ulcera e il sacerdote lo dichiarerà puro quando uno avrà sulla pelle del suo corpo una bruciatura calcianata dal fuoco e su questa bruciatura apparirà una macchia lucida bianca tendente al rosso o soltanto bianca il sacerdote l'esaminerà e se vedrà che il pelo della macchia è diventato bianco e la macchia appare più profonda della pelle e lebra scoppiata nella bruciatura il sacerdote dichiarerà quel tale impuro è piaga di lebra ma se il sacerdote esaminandola vede che non c'è pelo bianco nella macchia e che essa non è più profonda della pelle e non è più lucida il sacerdote lo rinchiuderà sette giorni il sacerdote il settimo giorno l'esaminerà e se la macchia si è allargata sulla pelle il sacerdote dichiarerà quel tale impuro è piaga di lebra e se la macchia è rimasta ferma nello stesso luogo e non si è allargata sulla pelle e non è più lucida è il tumore della bruciatura il sacerdote dichiarerà quel tale puro perché è la cicatrice della bruciatura quando un uomo o una donna avrà una piaga sul capo o nella barba il sacerdote esaminerà la piaga e se vedrà che essa appare più profonda della pelle e che vede il pelo gialliccio e sottile il sacerdote li dichiarerà impuri e tigna e lebra del capo o della barba e se il sacerdote esaminando la piaga della tigna vedrà che non appare più profonda della pelle e che non vè pelo nero il sacerdote rinchiuderà sette giorni colui che ha la piaga della tigna e se il sacerdote esaminandola il settimo giorno la piaga vedrà che la tigna non si è allargata e che non vè pelo giallo e che la tigna non appare più profonda della pelle quel tale si raderà ma non raderà il luogo dove è la tigna e il sacerdote rinchiuderà altri sette giorni colui che ha la tigna il sacerdote il settimo giorno esaminerà la tigna e se vedrà che la tigna non si è allargata sulla pelle e non appare più profonda della pelle il sacerdote dichiarerà quel tale puro colui si laverà le vesti e sarà puro ma se dopo che egli è stato dichiarato puro e la tigna si è allargata sulla pelle il sacerdote l'esaminerà e se vedrà che la tigna si è allargata sulla pelle il sacerdote non cercherà se vede il pelo giallo quel tale è impuro ma se vedrà che la tigna si è fermata e che vè cresciuto del pelo nero la tigna è guarita quel tale quel tale è puro e il sacerdote lo dichiarerà puro quando un uomo o una donna avrà sulla pelle del suo corpo delle macchie lucide delle macchie bianche il sacerdote l'esaminerà e se vedrà che le macchie sulla pelle del loro corpo sono di un pelo pallido è un'eruzione cutanea quel tale è puro colui al quale sono cascati i capelli del capo è calvo ma è puro se i capelli gli sono cascati dalla parte della faccia è calvo di fronte ma è puro ma se sulla parte calva del di dietro o del davanti del capo appare una piaga bianca tendente al rosso e lebra scoppiata nella parte calva del di dietro o del davanti del capo il sacerdote lo esaminerà e se vedrà che il tumore della piaga della parte calva dal di dietro o dal davanti del capo è bianco tendente al rosso simile alla lebra della pelle del corpo quel tale è un lebroso è impuro e il sacerdote lo dovrà dichiarare impuro egli ha la sua piaga sul capo il lebroso affetto da questa piaga porterà le vesti strappate e il capo scoperto si coprirà la barba e andrà gridando impuro impuro sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga è impuro se ne starà solo abitarà fuori del campo quando apparirà una piaga di lebra sopra una veste sia veste di lana o veste di lino un tessuto o un lavoro a maglia di lino o di lana un oggetto di pelle o qualunque altra cosa fatta di pelle se la piaga sarà verdastra rossastra sulla veste o sulla pelle sul tessuto o sulla maglia o su qualunque cosa fatta di pelle è piaga di lebra e sarà mostrata al sacerdote il sacerdote esaminerà la piaga e rinchiuderà sette giorni colui che ha la piaga il settimo giorno esaminerà la piaga e se la piaga si sarà allargata sulla veste o sul tessuto o sulla maglia o sulla pelle o sull'oggetto fatto di pelle per un uso qualunque è una piaga di lebra maligna e cosa impura egli brucerà quella veste o il tessuto o la maglia di lana o di lino o qualunque oggetto fatto di pelle sul quale è la piaga perché è lebra maligna saranno bruciati col fuoco e se il sacerdote esaminandola vedrà che la piaga non sia allargata sulla veste o sul tessuto o sulla maglia o sull'oggetto qualunque di pelle il sacerdote ordinerà che si lavi l'oggetto su cui è la piaga e lo rinchiuderà altri sette giorni il sacerdote esaminerà la piaga dopo che sarà stata lavata e se vedrà che la piaga non ha mutato colore benché non si sia allargata è un oggetto immondo lo brucerai col fuoco ve corrosione sia che la parte corrosa si trovi sul diritto o sul rovescio dell'oggetto se se il sacerdote esaminandola vede che la piaga dopo essere stata lavata è diventata pallida la strapperà dalla veste o dalla pelle o dal tessuto o dalla maglia e se apparisce ancora sulla veste o sul tessuto sulla maglia o sull'oggetto qualunque fatto di pelle è una eruzione lebrosa brucerai col fuoco l'oggetto su cui è la piaga la veste o il tessuto o la maglia o qualunque oggetto fatto di pelle che avrai lavato e del quale la piaga sarà scomparsa si laverà una seconda volta e sarà puro questa è la legge relativa alla piaga di lebra sopra una veste di lana o di lino sul tessuto o sulla maglia o su qualunque oggetto fatto di pelle per dichiararli puri o impuri Levitico capitolo quattordicesimo l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo questa è la legge relativa all'Ebroso per il giorno della sua purificazione egli sarà condotto dal sacerdote il sacerdote uscirà dal campo e l'esaminerà e se vedrà che la piaga della lebra è guarita nell'Ebroso il sacerdote ordinerà che si prendano per colui che deve essere purificato due uccelli vivi puri del legno di cedro dello scarlato e dell'isopo il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli in un vaso di terra su dell'acqua viva poi prenderà l'uccello vivo il legno di cedro lo scarlato e l'isopo e l'immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua viva ne aspargerà sette volte colui che deve essere purificato dalla lebra lo dichiarerà puro e lascerà andar libero per i campi l'uccello vivo colui che si purifica si laverà le vesti si raderà tutti i peli si laverà nell'acqua e sarà puro dopo questo potrà entrare nel campo ma resterà sette giorni fuori della sua tenda il settimo giorno si raderà tutti i peli il capo la barba le ciglia si raderà insomma tutti i peli si laverà le vesti e si laverà il corpo nell'acqua e sarà puro l'ottavo giorno prenderà due agnelli senza difetto un'agnella di un anno senza difetto tre decimi di un nefa di fior di farina un'oblazione intrisa con olio e un log d'olio e il sacerdote che fa la purificazione presenterà colui che si purifica e queste cose davanti all'eterno all'ingresso della tenda di convegno poi il sacerdote prenderà uno degli agnelli e l'offrirà come sacrificio di riparazione con il log d'olio e li agiterà come offerta agitata davanti all'eterno poi scannerà l'agnello nel luogo dove si scannano i sacrifici per il peccato e gli olocausti vale a dire nel luogo sacro poiché il sacrificio di riparazione appartiene al sacerdote come quello per il peccato è cosa santissima e il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio di riparazione e lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica sul pollice della sua mandestra e sul dito grosso del suo piede destro poi il sacerdote prenderà dell'olio dell'og e lo verserà nella palma della sua mano sinistra quindi il sacerdote intingerà il dito della sua destra nell'olio che avrà nella sinistra e col dito farà sette volte aspersione di quell'olio davanti all'eterno e del rimanente dell'olio che avrà in mano il sacerdote ne metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica sul pollice della sua mandestra e sul dito grosso del suo piede destro oltre al sangue del sacrificio di riparazione il resto dell'olio che avrà in mano il sacerdote lo metterà sul capo di colui che si purifica e il sacerdote farà per lui l'espiazione davanti all'eterno poi il sacerdote offrirà il sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per colui che si purifica della sua impurità quindi scannerà l'olocausto il sacerdote offrirà l'olocausto e l'oblazione sull'altare farà per quel tale l'espiazione ed egli sarà puro se colui è povero e non può procurarsi tanto prenderà un solo agnello da offrire in sacrificio di riparazione come offerta agitata per fare l'espiazione per lui e un solo decimo d'un'efa di fior di farina intrinza con olio come oblazione e un log d'olio prenderà pure due tortoli o due giovani piccioni secondo i suoi mezzi uno sarà per il sacrificio per il peccato e l'altro per l'olocausto l'ottavo giorno porterà per la sua purificazione queste cose al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno davanti all'eterno e il sacerdote prenderà l'agnello del sacrificio di riparazione e il log d'olio e li agiterà come offerta agitata davanti all'eterno poi scannerà l'agnello del sacrificio di riparazione il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio di riparazione e lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica e sul pollice della sua man destra e sul dito grosso del suo piede destro il sacerdote verserà di quell'olio sulla palma della sua mano sinistra e col dito della sua man destra il sacerdote farà aspersione dell'olio che avrà nella mano sinistra sette volte davanti all'eterno poi il sacerdote metterà dell'olio che avrà in mano sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica sul pollice della sua man destra e sul dito grosso del suo piede destro nel luogo dove ha messo del sangue del sacrificio di riparazione il resto dell'olio che avrà in mano il sacerdote lo metterà sul corpo di colui che si purifica per fare espiazione per lui davanti all'eterno poi sacrificherà una delle tortere o uno dei due giovani piccioni secondo che ha potuto procurarsi delle vittime che ha potuto procurarsi una offrirà come sacrificio per il peccato e l'altra come olocausto insieme con l'oblazione e il sacerdote farà l'espiazione davanti all'eterno per colui che si purifica questa è la legge relativa a colui che è effetto da piaga di lebra e non ha mezzi da procurarsi ciò che è richiesto per la sua purificazione l'eterno parlò ancora a mosè e ad aronne dicendo quando sarete entrati nel paese di cana anche io vi do come vostro possesso se mando la piaga della lebra in una casa del paese che sarà vostro possesso il padrone della casa andrà a dichiararlo al sacerdote dicendo mi pare che in casa mia ci sia qualche cosa di simile alla lebra allora il sacerdote ordinerà che si sgomberi la casa prima che gli ventri per esaminare la piaga affinché tutto quello che è nella casa non diventi impuro dopo questo il sacerdote entrerà per esaminare la casa ed esaminerà la piaga e se vedrà che la piaga che è sui muri della casa consiste in fossette verdastre o rossastre che appaiono più profonde della superficie della parete il sacerdote uscirà dalla casa e giunto alla porta farà chiudere la casa per sette giorni il settimo giorno il sacerdote vi tornerà e se esaminandola vedrà che la piaga sia allargata sulle pareti della casa il sacerdote ordinerà che se ne smurino le pietre sulle quali la piaga e che si gettino in un luogo immondo fuori di città farà raschiare tutto l'interno della casa e butteranno i calcinacci raschiati fuori di città in un luogo impuro poi si prenderanno delle altre pietre e si metteranno al posto delle prime e si prenderà dell'altra calcina per intonacare la casa e se la piaga torna interrompere nella casa dopo aver smurato le pietre e dopo che la casa è stata raschiata e rintonacata il sacerdote entrerà ad esaminare la casa e se vedrà che la piaga vi sia allargata nella casa c'è della lebra maligna la casa è impura perciò si demolirà la casa e se ne porteranno le pietre il legname i calcinacci fuori della città in un luogo impuro inoltre chiunque sarà entrato in quella casa durante tutto il tempo che è stata chiusa sarà impuro fino alla sera chi avrà dormito in quella casa si laverà le vesti e chi avrà mangiato in quella casa si laverà le vesti e se il sacerdote che è entrato nella casa e l'ha esaminata vede che la piaga non si è allargata nella casa e dopo che la casa è stata rintonacata il sacerdote dichiarerà la casa pura perché la piaga è guarita poi per purificare la casa prenderà due uccelli del legno di cedro dello scarlato e dell'isoppo e sgozzerà uno degli uccelli in un vaso di terra su dell'acqua viva e prenderà il legno di cedro l'isoppo e lo scarlato e l'uccello vivo e li immergerà nel sangue dell'uccello sgozzato e nell'acqua viva e ne aspargerà sette volte la casa e purificherà la casa col sangue dell'uccello dell'acqua viva e dell'uccello vivo con legno di cedro con l'isoppo e con lo scarlato ma lascerà andare libero l'uccello vivo fuori di città per i campi e così farà l'espiazione per la casa ed essa sarà pura questa è la legge relativa ad ogni sorta di piaga di lebra e alla tigna alla lebra delle vesti e della casa ai tumori alle pustole e alle macchie lucide per insegnare quando una cosa è impura e quando è pura questa è la legge relativa alla lebra Levitico capitolo quindicesimo l'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aronne dicendo parlate ai figlioli di Israele e dite loro chiunque ha una gonorrea a motivo della sua gonorrea è impuro la sua impurità sta nella sua gonorrea sia la sua gonorrea continua o intermittente la impurità esiste ogni letto sul quale si coricherà colui che ha la gonorrea sarà impuro e ogni oggetto sul quale si sederà sarà impuro chi toccherà il letto di colui si laverà le vesti laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera chi si sederà sopra un oggetto qualunque sul quale si sia seduto colui che ha la gonorrea si leverà le vesti laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera chi toccherà il corpo di colui che ha la gonorrea si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera se colui che ha la gonorrea sputerà sopra uno che è puro questi si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera ogni sella su cui sarà salito chi ha la gonorrea sarà impura chiunque toccherà qual si voglia cosa che sia stata sotto quel tale sarà impuro fino alla sera e chi porterà tali oggetti si laverà le vesti laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera chiunque sarà toccato da colui che ha la gonorrea se questi non si era lavato le mani dovrà lavarsi le vesti, lavare se stesso nell'acqua e sarà immondo fino alla sera il vaso di terra toccato da colui che ha la gonorrea sarà spezzato e ogni vaso di legno sarà lavato nell'acqua quando colui che ha la gonorrea sarà purificato dalla sua gonorrea conterà sette giorni per la sua purificazione poi si laverà le vesti laverà il suo corpo nell'acqua viva e sarà puro l'ottavo giorno prenderà due tortore o due giovani piccioni verrà davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno e li darà al sacerdote e il sacerdote li offrirà uno come sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto e il sacerdote farà l'espiazione per lui davanti all'Eterno a motivo della sua gonorrea l'uomo da cui sarà uscito seme genitale si laverà tutto il corpo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera ogni veste e ogni pelle su cui sarà seme genitale si laveranno nell'acqua e saranno impuri fino alla sera la donna e l'uomo che giaceranno insieme carnalmente si laveranno ambedue nell'acqua e saranno impuri fino alla sera quando una donna avrà i suoi corsi e il sangue le fluirà dalla carne la sua impurità durerà sette giorni e chiunque la toccherà sarà impuro fino alla sera ogni letto sul quale si sarà messa a dormire durante la sua impurità sarà impuro e ogni mobile sul quale si sarà messa a sedere sarà impuro chiunque toccherà il letto di colei si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera e chiunque toccherà qualsivoglia mobile sul quale ella si sarà seduta si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera e se l'uomo si trovava nel suo letto sul mobile dove la sedeva quando è avvenuto il contatto, egli sarà impuro fino alla sera e se un uomo giace con essa e avvien che lo tocchi la impurità di lei egli sarà impuro sette giorni e ogni letto sul quale si coricherà sarà impuro la donna che avrà un flusso di sangue per parecchi giorni fuori del tempo dei suoi corsi o che avrà questo flusso oltre il tempo dei suoi corsi sarà impura per tutto il tempo del flusso come al tempo dei suoi corsi ogni letto sul quale si coricherà durante tutto il tempo del suo flusso sarà per lei come il letto sul quale si coricherà quando ha i suoi corsi e ogni mobile sul quale si sederà sarà impuro come è impuro quando ella ha i suoi corsi e chiunque toccherà queste cose sarà immondo si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera e quando ella sarà purificata del suo flusso conterà sette giorni e poi sarà pura l'ottavo giorno prenderà due tortori o due giovani piccioni e li porterà al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno e il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per il peccato l'altro come olocausto e il sacerdote farà per lei l'espiazione davanti all'eterno del flusso che la rendeva impura così terrete lontani i figlioli di Israele da ciò che potrebbe contaminarli affinché non muoiano a motivo della loro impurità contaminando il mio tabernacolo che è in mezzo a loro questa è la legge relativa a colui che ha una gonorrea e a colui dal quale è uscito semigenitale che lo rende immondo e la legge relativa a colei che è indisposta a motivo dei suoi corsi all'uomo o alla donna che ha un flusso e all'uomo che si corica con una donna impura L'Eterno parlò a Mosè dopo la morte dei due figlioli da Aronne i quali morirono quando si presentarono davanti all'Eterno e l'Eterno disse a Mosè Parla da Aronne tuo fratello e didi di non entrare in ogni tempo nel santuario di là dal velo davanti al propiziatorio che è sull'arca onde non abbia morire poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio Aronne entrerà nel santuario in questo modo prenderà un giovenco per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocasto si metterà la tunica sacra di lino e porterà sulla carne le brache di lino e si scingerà della cintura di lino e si porterà in capo la mitra di lino questi sono i paramenti sacri egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua della radunanza dei figlioli di Israele prenderà due capri per il sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto Aronne offrirà il giovenco del sacrificio per il peccato che è per sé e farà l'espiazione per sé e per la sua casa poi prenderà i due capi e li presenterà davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno e Aronne trarrà le sorti per vedere quale dei due debba essere dell'Eterno e quale di Asazero e Aronne farà accostare il capro che è toccato la sorte all'Eterno e lo offrirà come sacrificio per il peccato ma il capro che è toccato in sorte ad Asazero sarà posto vivo davanti all'Eterno perché serva a fare l'espiazione e per mandarlo poi ad Aser nel deserto Aronne offrirà dunque il giovenco del sacrificio per il peccato per sé e farà l'espiazione per sé e per la sua casa e scannerà il giovenco del sacrificio per il peccato per sé poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi tolti di sopra dell'altare davanti all'Eterno e due manate piene di profumo fragrante polverizzato e porterà ogni cosa di là dal velo metterà il profumo sul fuoco davanti all'Eterno affinché il nuvolo del profumo copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morrà poi prenderà del sangue del giovenco e ne spargerà col dito il propiziatorio del lato d'Oriente e farà sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio poi scannerà il capo del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dal velo e farà di questo sangue quello che ha fatto del sangue del giovenco ne farà un'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio così farà l'espiazione per il sacrificio a motivo delle impurità dei figlioli di Israele delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati lo stesso farà per la tenda di convegno che è stabilita fra loro in mezzo alle loro impurità e nella tenda di convegno quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione non ci sarà alcuno finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé per la sua casa e per tutta la radunanza di Israele egli uscirà verso l'altare che è davanti all'Eterno e farà l'espiazione per esso prenderà del sangue del giovenco e del sangue del capro e lo metterà sui corni dell'altare tutto all'intorno e farà sette volte l'aspersione del sangue col dito sopra l'altare e così lo purificherà e lo santificherà a motivo delle impurità dei figlioli di Israele e quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario per la tenda di convegno e per l'altare farà accostare il capro vivo Aronne poserà ambedule mani sul capo del capro vivo confesserà sopra adesso tutte le iniquità dei figlioli di Israele tutte le loro trasgressioni tutti i loro peccati e li metterà sulla testa del capro poi per mano di un uomo incaricato di questo lo manderà via nel deserto e quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria e sarà lasciato andare nel deserto poi Aronne entrerà nella tenda di convegno si spoglierà delle vesti di lino che avrà indossate per entrare nel santuario e le deporrà quivi si laverà il corpo nell'acqua in un luogo santo si metterà ai suoi paramenti e uscirà ad offrire il suo olocausto e olocausto del popolo e farà l'espiazione per sé e per tutto il popolo e farà fumare sull'altare il grasso del sacrificio per il peccato colui che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si leverà le vesti laverà il suo corpo nell'acqua e dopo questo rientrerà nel campo e si porterà fuori del campo il giovenco del sacrificio per il peccato e il capo del sacrificio per il peccato il cui sangue sarà stato portato nel santuario per farvi l'espiazione e se ne bruceranno nel fuoco le pelli la carne e gli escrementi poi colui che li avrà bruciati si laverà le vesti e laverà il suo corpo nell'acqua dopo questo rientrerà nel campo questo sarà per voi una legge perpetua nel settimo mese il decimo giorno del mese umilierete le anime vostre e non farete lavoro di sorta né colui che è nativo del paese né il forestiero che soggiorna fra voi poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi al fin di purificarvi voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno è per voi un sabato di riposto solenne e voi umilierete le anime vostre è una legge perpetua e il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e che è stato consacrato per esercitare il sacerdocio al posto di suo padre farà l'espiazione si vestirà delle vesti di lino dei paramenti sacri e farà l'espiazione per il santuario sacro farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della radunanza questa sarà per voi una legge perpetua per fare una volta all'anno per i figlioli di Israele l'espiazione di tutti i loro peccati e si fece come l'Eterno aveva ordinato a Mosè L'Eterno parla ancora a Mosè dicendo parla ad Arone e ai suoi figlioli e a tutti i figlioli di Israele di loro questo è quello che l'Eterno ha ordinato dicendo se un uomo qualunque della casa di Israele scanna un bue o un agnello o una capra entro il campo o fuori del campo e non lo mena all'ingresso della tenda di convegno e per presentarlo come offerta all'Eterno davanti al tabernacolo dell'Eterno sarà considerato come colpevole di delitto di sangue ha sparso del sangue e quest'uomo sarà sterminato di fra il suo popolo affinché i figlioli di Israele invece di molare come fanno i loro sacrifici nei campi li recchino all'Eterno presentandoli al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno e li offrano all'Eterno come sacrifici di azioni di grazie il sacerdote ne spanderà il sangue sull'altare dell'Eterno all'ingresso della tenda di convegno e farà fumare il grasso come un profumo soave all'Eterno ed essi non offriranno più i loro sacrifici ai demoni ai quali vogliono prostituirsi questa per loro è una legge perpetua di generazione in generazione di loro ancora se un uomo qualunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiorano fra loro offrirà un holocausto o un sacrificio e non lo porterà all'ingresso della tenda di convegno per rimolarlo all'Eterno quest'uomo sarà sterminato di fra il suo popolo se un uomo qualunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiorano fra loro mangia di qualsivoglia specie di sangue io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la sterminerò di fra il suo popolo poiché la vita della carne è nel sangue per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare espiazioni per le vostre persone perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita perciò ho detto ai figlioli di Israele nessuno tra voi mangerà del sangue neppure lo straniero che soggiorna fra voi mangerà del sangue e se uno qualunque dei figlioli di Israele o degli stranieri che soggiorano fra loro prende alla caccia un quadrupede o un uccello che si può mangiare ne spargerà il sangue lo coprirà di polvere perché la vita di ogni carne è il sangue nel sangue suo sta la vita perciò ho detto ai figlioli di Israele non mangerete sangue da alcuna specie di carne poiché il sangue è la vita di ogni carne chiunque ne mangerà sarà sterminato e chiunque persona sia essa nativa del paese o straniera che mangerà carne di bestia morta da sé o sbranata si laverà le vesti laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera poi sarà puro ma se non si lava le vesti e se non lava il suo corpo porterà la pena della sua iniquità Levitico capitolo diciottesimo e l'eterno parlo ancora a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele di loro io sono l'eterno lì Dio vostro non farete quel che si fa nel paese d'Egitto dove avete abitato e non farete quel che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco e non seguirete i loro costumi metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi ad esse io sono l'eterno lì Dio vostro osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà io sono l'eterno nessuno si accosterà ad alcuna sua parente carnale per scoprire la sua nudità io sono l'eterno non scoprirai la nudità di tuo padre né la nudità di tua madre e tua madre non scoprirai la sua nudità non scoprirai la nudità della moglie di tuo padre e la nudità di tuo padre non scoprirai la nudità della tua sorella figliola di tuo padre o figliola di tua madre sia essa nata in casa o nata fuori non scoprirai la nudità della figliola del tuo figliolo o della figliola della tua figliola, poiché è la propria nudità. Non scoprirai la nudità della figliola della moglie di tuo padre, generata da tuo padre e tua sorella. Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre, è parente stretta di tuo padre. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre, perché è parente stretta di tua madre. Non scoprirai la nudità del fratello di tuo padre, e non t'accosterai alla sua moglie, è tua zia. Non scoprirai la nudità della tua nuora, è la moglie del tuo figliuolo. Non scoprire la sua nudità. Non scoprirai la nudità della moglie di tuo fratello, è la nudità di tuo fratello. Non scoprirai la nudità di una donna, è della sua figliuola. Non prenderai la figliuola del figliuolo di lei, né la figliuola della figliuola di lei, per scoprire la nudità. Sono parenti stretti, è un delitto. Non prenderai la sorella di tua moglie, per farne una rivale, scoprendo la sua nudità insieme con quella di tua moglie, mentre questa è in vita. Non t'accosterai a donna per scoprir la sua nudità, mentre è impura a motivo dei suoi corsi. Non avrai relazioni carnali con la moglie del tuo prossimo per contaminarti con lei. Non darai dei tuoi figliuoli ad essere immolati a Malok, e non profanerai il nome del tuo Dio. Io sono l'Eterno. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Non t'accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa. E la donna non si prostitirà ad una bestia, è una mostruosità. Non vi contaminate con alcuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare dinanzi a voi. Il paese ne è stato contaminato, ond'io punirò la sua iniquità. Il paese vomiterà i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, e non contaminerete alcuna di queste cose, né colui che è nativo del paese, né il forestiero che soggiorna fra voi. Poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vera prima di voi, e il paese ne è stato contaminato. Badate che se lo contaminate il paese non vi vomiti come vomiterà la gente che vi stava prima di voi. Poiché tutti quelli che commetteranno alcuna di queste cose abominevoli saranno sterminati di fra il loro popolo. Osserverete dunque i miei ordini, e non seguirete alcuno di quei costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi, e non vi contaminerete con essi. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Levitico capitolo diciannovesimo L'Eterno parlo ancora a Mosè dicendo, parla a tutta la radunanza dei figlioli di Israele e di loro. Siate santi, perché io, l'Eterno, l'Iddio vostro, sono santo. Rispetti ciascuno sua madre e suo padre, e osservate i miei sabati. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Non vi rivolgete agli idoli, e non vi fate degli idoli di getto. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. E quando offrirete un sacrificio di azioni di grazia all'Eterno, l'offrirete in modo da essere graditi. Lo si mangerà in giorno stesso che lo avete immolato e il giorno seguente, e se ne rimarrà qualcosa fino al terzo giorno, lo brucerete col fuoco. Se ne mangerà il terzo giorno, sarà una cosa abominevole. Il sacrificio non sarà gradito. E chiunque ne mangerà porterà la pena della sua iniquità, perché avrà profanato ciò che è sacro all'Eterno, e quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo canto il tuo campo, e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. E nella tua vigna non coglierai i raspoli, né raccoglierai i granelli caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Non ruberete, e non userete inganno né menzogna, gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso usando il mio nome, né profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono l'Eterno. Non opprimerai il tuo prossimo, e non gli rapirai ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino. Non maledirai il sordo, e non porrai inciampo davanti al cieco. Ma temerai il tuo Dio. Io sono l'Eterno. Non commettere iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai qua e là facendo il diffamatore fra il tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono l'Eterno. Non odierai il tuo fratello in cuor tuo. Riprendi pure il tuo prossimo, ma non ti caricare d'un peccato a cagione di lui. Non ti vendicherai, e non serverai rancore contro i figlioli del tuo popolo. Mammerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono l'Eterno. Osserverete le mie leggi. Non accoppierai le bestie di specie differenti, non seminerai il tuo campo con due sorti di seme, né porterai veste tessuta di due diverse materie. Se uno si giasce carnalmente con una donna che sia schiava promessa a un uomo, ma non riscattata o affrancata, saranno ambedue puniti, ma non saranno messi a morte perché colei non era libera. L'uomo condurrà all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno come sacrificio di riparazione un montone, e il sacerdote farà per lui respiazione davanti all'Eterno col montone del sacrificio di riparazione per il peccato che colui ha commesso, e il peccato che ha commesso gli sarà perdonato. Quando sarete entrati nel paese, e vi avrete piantato ogni sorta di alberi fruttiferi, ne considererete i frutti come incirconcisi per tre anni, saranno per voi come incirconcisi, e non si dovranno mangiare, ma il quarto anno tutti i loro frutti saranno consacrati all'Eterno per dargli lode, e il quinto anno mangerete il frutto di questi alberi affinché essi vi aumentino il loro prodotto. Io sono l'Eterno, lì Dio vostro. Non mangerete nulla che contenga sangue, non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia, non vi taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né toglierai i canti della tua barba, non vi farete incisioni sulla carne per un morto, né vi stamperete segni addosso. Io sono l'Eterno. Non profanare la tua figliuola, prostituendola affinché il paese non si dia la prostituzione e non si riempia di sceleratezze. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono l'Eterno, lì Dio vostro. Alzati dinanzi al capo canuto, onora la persona del vecchio, e temi il tuo Dio. Io sono l'Eterno. Quando qualche forestiero soggiornerà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero che soggiorna fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, poiché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, lì Dio vostro. Non commetterete ingiustizie né giudizi né con le misure di lunghezza né con i pesi né con le misure di capacità. Avrete stadere giuste, pesi giusti, effa giusti, ingiusto. Io sono l'Eterno, lì Dio vostro, che evo tratto dal paese d'Egitto. Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica. Io sono l'Eterno. Levitico, capitolo ventesimo L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, «Dirai ai figlioli di Israele, chiunque dei figlioli di Israele o dei forestieri che soggiornano in Israele darà dei suoi figlioli a Molok, dovrà essere messo a morte, e il popolo del paese lo lapiderà. E anch'io volgerò la mia faccia contro quell'uomo e lo sterminerò di fra il suo popolo per chi avrà dato dei suoi figlioli a Molok per contaminare il mio santuario e profanare il mio santo nome. E se il popolo del paese chiude gli occhi quando quell'uomo dà dei suoi figlioli a Molok e non lo mette a morte, Io volgerò la mia faccia contro quell'uomo e contro la sua famiglia e sterminerò di fra il suo popolo lui con tutti quelli che si prostituiscono come lui prostituendosi a Molok. E se qualche persona si volge agli spiriti, agli indovini per prostituirsi dietro a loro, Io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di fra il suo popolo. Santificatevi dunque e siate santi, perché Io sono l'Eterno il vostro Dio. E osservate le mie leggi e mettetele in pratica, Io sono l'Eterno che vi santifica. Chiunque maledice suo padre e sua madre dovrà essere messo a morte, ha maledetto suo padre o sua madre, il suo sangue ricadrà su di lui. Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Se uno si giasce con la moglie di suo padre, egli scopre la nudità di suo padre, ambedue dovranno essere messi a morte, il loro sangue cadrà su loro. Se uno si giasce con la sua nuora, ambedue dovranno essere messi a morte, hanno commesso una cosa abominevole, il loro sangue ricadrà su loro. Se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole, dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su loro. Se uno prende per moglie la figlia e la madre è un delitto, si bruceranno col fuoco lui e loro, affinché non si trovi fra voi alcun delitto. L'uomo che si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte e ucciderete la bestia, e se una donna si accosta a una bestia per prostituirsi ad essa, uccidere la donna e la bestia, ambedue dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno prende la propria sorella, figliola di suo padre o figliola di sua madre, e vede la nudità di lei, ed ella vede la nudità di lui, è un'infiamia, ambedue saranno sterminati in presenza dei figlioli del loro popolo, quel tale ha scoperto la nudità della propria sorella, porterà la pena della sua iniquità. Se uno si giasce con una donna che ha i suoi corsi e scopre la nudità di lei, quel tale ha scoperto il flusso di quella donna, ed ella ha scoperto il flusso del proprio sangue, perciò ambedue saranno sterminati di fra il loro popolo. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella di tuo padre, chi lo fa scopre la sua stretta parente, e ambedue porteranno la pena della loro iniquità. Se uno si giasce con la moglie di suo zio, scopre la nudità di suo zio, ambedue porteranno la pena del loro peccato, morranno senza figlioli. Se uno prende la moglie di suo fratello, è una impurità, egli ha scoperto la nudità di suo fratello, non avranno figlioli. Osserverete dunque tutte le mie leggi e le mie prescrizioni le metterete in pratica affinché il paese dove io vi conduco per abitarvi non vi vomiti fuori, e non adotterete costumi delle nazioni che io sto per cacciare dinanzi a voi, e se hanno fatto tutte queste cose, perciò le ho avute in abominio. E vi ho detto, sarete voi quelli che possederete il loro paese, ve lo darò come vostra proprietà, è un paese dove scorre il latte e il miele. Io sono l'eterno Lidio vostro che vi ho separato dagli altri popoli. Farete dunque distinzione fra gli animali puri e quelli impuri, fra gli uccelli impuri e quelli puri, e non renderete le vostre persone abominevoli, mangiando animali, uccelli o cosa alcuna strisciante sulla terra, e che io vi ho fatto distinguere come impuri. E mi sarete santi, poiché io l'Eterno son santo e vi ho separati dagli altri popoli perché foste miei. Se un uomo o una donna ha uno spirito o indovina, dovranno essere messi a morte, saranno lapidati, e il loro sangue cadrà su di loro. Levitico, capitolo ventunesimo L'Eterno disse ancora a Mosè, Parla ai sacerdoti figlioli da Ronne e di loro, un sacerdote non si esporrà a divenire impuro in mezzo al suo popolo per il contatto con un morto, a meno che si tratti d'uno dei suoi parenti più stretti, di sua madre, di suo padre, del suo figliolo o della sua figliola, del suo fratello o della sua sorella ancora vergine che vive con lui, non essendo ancora maritata. Per questa può esporsi alla impurità. Capo, come in mezzo al suo popolo, non si contaminerà profanando se stesso. I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, non si raderanno i canti della barba e non si faranno incisioni nella carne. Saranno santi al loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, poiché offrono all'Eterno i sacrifici fatti mediante il fuoco. Il pane del loro Dio, perciò, saranno santi. Non prenderanno una prostituta né una donna disonorata, non prenderanno una donna ripudiata dal suo marito perché sono santi al loro Dio. Tu considererai dunque il sacerdote come santo perché gli offre il pane del tuo Dio e ti sarà santo perché io, l'Eterno, che vi santifico, sono santo. Se la figliola di un sacerdote si disonora prostituendosi, ella disonora suo padre, sarà arsa col fuoco. Il sommo sacerdote che sta al di sopra dei suoi fratelli sul capo del quale è stato sparsa l'olio dell'unzione e che è stato consacrato per rivestire i paramenti sacri, non si scoprirà il capo e non si straccerà le vesti. Non si avvicinerà ad alcun cadavere, non si renderà impuro neppure per suo padre o per sua madre, non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio perché l'olio dell'unzione del suo Dio è su lui come un diadema. Io sono l'Eterno, sposerà una vergine, non sposerà né una vedova né una divorziata né una disonorata né una meretrice ma prenderà per moglie una vergine del suo popolo, non disonorerà la sua progenie in mezzo al suo popolo perché io sono l'Eterno che lo santifico. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ad Arone e digli, nelle generazioni a venire, nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità s'accosterà per offrire il pane del suo Dio, poiché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né il cieco o nello zoppo, né colui che ha una deformità per difetto o per eccesso, o una frattura al piede o alla mano, né il gobbo, né il nano, né colui che ha una macchia nell'occhio o alla rogna, o un erpete o i testicoli infranti. Nessun uomo della stirpe del sacerdote d'Aronne che abbia qualche deformità si accosterà per offrire sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno, ha un difetto, non si accosti quindi per offrire il pane del suo Dio. Egli potrà mangiare del pane del suo Dio, delle cose santissime e delle cose sante, ma non si avvicinerà al velo e non si accosterà all'altare perché ha una deformità, non profanerà i miei luoghi santi perché io sono l'Eterno che li santifico. Così parlò Mosè ad Arone e ai figlioli di lui e a tutti i figlioli di Israele. LEVITICO CAPITOLO VENTIDUESIMO L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, Dì ad Arone e ai suoi figlioli che si astengano dalle cose sante che mi sono consacrate dai figlioli di Israele e non profanino il mio santo nome, io sono l'Eterno. Dì loro. Qualunque uomo della vostra stirpe che è nelle vostre future generazioni, trovandosi in uno stato di impurità, si accosterà alle cose sante che i figlioli di Israele consacrano all'Eterno, sarà sterminato dal mio cospetto, io sono l'Eterno. Qualunque uomo della stirpe d'Aronne che sia lebroso o abbia la gonorrea, non mangerà delle cose sante finché non sia puro, e così sarà di chi avrà toccato una persona impura per contatto con un morto, o avrà avuto una perdita di seme genitale, o di chi avrà toccato un rettile che l'abbia reso impuro, o un uomo che gli abbia comunicato un'impurità di qualsivoglia specie. La persona che avrà avuto di tali contatti sarà impura fino alla sera e non mangerà delle cose sante prima ad essersi lavato il corpo nell'acqua. Dopo il tramonto del sole sarà pura e potrà poi mangiare delle cose sante, poiché sono il suo pane. Il sacerdote non mangerà carne di bestia morta da sé o sbranata per non rendersi impuro, io sono l'Eterno. Osserveranno dunque ciò che è comandato, onde non portino la pena del loro peccato e muoiono per aver profanato le cose sante, io sono l'Eterno che li santifico. Nessun estraneo al sacerdozio mangerà delle cose sante, chi sta da un sacerdote o lavora da lui per un salario non mangerà delle cose sante. Ma una persona che il sacerdote avrà comprata coi suoi danari ne potrà mangiare, cosepure colui che gli è nato in casa, questi potranno mangiare del pane di lui. La figliola di un sacerdote maritata ad un estraneo non mangerà delle cose sante offerte per elevazione, ma se la figliola del sacerdote è vedova o ripudiata, senza figlioli, e torna a stare da suo padre come quando era giovane, potrà mangiare del pane del padre, ma nessun estraneo al sacerdozio ne mangerà. Se uno mangia per sbaglio di una cosa santa, darà al sacerdote il valore della cosa santa, aggiungendovi un quinto. I sacerdoti non profaneranno dunque le cose sante dei figlioli d'Israele che si offrano per elevazione all'Eterno, non faranno loro portare la pena del peccato di cui si renderebbero colpevole, mangiando delle cose sante, poiché io sono l'Eterno che li santifico. L'Eterno, parlo ancora a Mosè dicendo, parla ad Aronne e ai suoi figlioli, a tutti i figlioli d'Israele e di loro, chiunque sia della casa d'Israele o del forestiere in Israele, che presenti in Olocausto all'Eterno un'offerta per qualche voto, per qualche dono volontario, per essere gradito, dovrà offrire un maschio senza difetto di fra i suoi boi, di fra le pecore o di fra le capre. Non offrirete nulla che abbia qualche difetto, poiché non sarebbe gradito. Quando uno offrirà all'Eterno un sacrificio di azioni di grazie, di buoio, di pecore, sia per sciogliere un voto, sia come l'offerta volontaria, la vittima, perché sia gradita, dovrà essere perfetta. Non dovrà aver difetti. Non offrirete all'Eterno una vittima che sia cieca o storpia o mutilata, o che abbia delle ulceri o la rogna o la scabbia, e non ne farete sull'altare un sacrificio mediante il fuoco all'Eterno. Potrai presentare come l'offerta volontaria un bue o una pecora, che abbia un membro troppo lungo o troppo corto, ma come offerta per qualche voto non sarebbe gradito. Non offrirete all'Eterno un animale che abbia i testicoli ammaccati o schiacciati o strappati o tagliati, o di queste operazioni non ne farete nel vostro paese. Non accetterete dallo straniero alcuna di queste vittime per offrirla come pane del vostro Dio, siccome sono mutilate e difettose, non sarebbero gradite per il vostro bene. L'Eterno parlo ancora a Mosè, dicendo, quando sarà nato un vitello o un agnello o un capretto, starà sette giorni sotto la madre. Dall'ottavo giorno in poi sarà gradito come sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno, sia vacca, sia pecora, non la scannerete lo stesso giorno del suo parto. Quando offrirete all'Eterno un sacrificio di azioni di grazie, l'offrirete in modo da essere graditi. La vittima sarà mangiata il giorno stesso. Non ne lascerete nulla fino al mattino. Io sono l'Eterno. Osserverete dunque i miei comandamenti e li metterete in pratica. Io sono l'Eterno. Non profanerete il mio santo nome, ond'io sia santificato in mezzo ai figliuoli di Israele. Io sono l'Eterno che vi santifico, che vi ho tratto dal paese d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono l'Eterno. Levitico capitolo ventitreesimo L'Eterno parlo ancora a Mosè dicendo, parla ai figliuoli di Israele di loro, ecco le solennità dell'Eterno che voi bandirete come sante convocazioni. Le mie solennità sono queste. Durante sei giorni si attenderà lavoro, ma il settimo giorno è sabato, giorno di completo riposo e di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno. È un riposo consacrato all'Eterno in tutti i luoghi dove abiterete. Queste sono le solennità dell'Eterno, le sante convocazioni che bandirete ai tempi stabiliti. Il primo mese, il quattordicesimo giorno del mese sull'imbrunire, sarà la Pasqua dell'Eterno. E il quindicesimo giorno dello stesso mese sarà la festa dei pane e zimi. In onore dell'Eterno per sette giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete in esso alcuna opera servile, e per sette giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici mediante il fuoco. Il settimo giorno si avrà una santa convocazione e farete alcuna opera servile. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo, Parla ai figlioli di Israele e di loro, quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne metterete la raccolta, porterete al sacerdote un mannello come primizia della vostra raccolta, e il sacerdote agiterà la mannella davanti all'Eterno perché sia gradita per il vostro bene. Il sacerdote agiterà il giorno dopo il sabato, e il giorno che agiterete la mannella offrirete un agnello di un anno che sia senza difetto come olocausto all'Eterno. L'oblazione che la compagna sarà di due decimi di un'efa di fior di farina intrisa con olio come un sacrificio mediante il fuoco di suo avodore all'Eterno. L'alibazione sarà ad un quarto di un hin di vino. Non mangerete pane né grano arrostito né spighe fresche fino a quel giorno, fino a che abbiate portato l'offerta al vostro Dio. È una legge perpetua, di generazione in generazione e in tutti i luoghi dove abiterete. Dall'indomani del sabato del giorno che avrete portato la mannella dell'offerta agitata, conterete sette settimane intere. Conterete cinquanta giorni fino all'indomani del settimo sabato e offrirete all'Eterno la nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abiterete due pani per un'offerta agitata, i quali saranno di due decimi di un'efa di fior di farina e cotti con del lievito, sono le primizie offerte all'Eterno. E con quei pani offrirete sette agnelli dell'anno senza difetto, un giovenco e due montoni che saranno un olocausto all'Eterno, assieme alla loro oblazione e alla loro libazione, sarà un sacrificio di suave odore, fatto mediante il fuoco all'Eterno. E offrirete un capro come sacrificio per il peccato e due agnelli dell'anno come sacrificio di azioni di grazie. Il sacerdote agiterà gli agnelli col pane delle primizie come offerta agitata davanti all'Eterno, e tanto i pani quanto i due agnelli consacrati all'Eterno apparterranno al sacerdote. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo canto il tuo campo, e non raccoglierai ciò che resta da spigolare nella tua raccolta. Lo lascerei per il povero e per il forestiero. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo, Parla ai figlioli di Israele di loro, il settimo mese e il primo giorno del mese avrete un riposo solenne, una commemorazione fatta a suon di tromba, una santa convocazione. Non farete alcuna opera servile, e offrirete all'Eterno dei sacrifici mediante il fuoco. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo, Il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle spiazioni. Avrete una santa convocazione, umilierete le anime vostre, e offrirete all'Eterno dei sacrifici mediante il fuoco. In quel giorno non farete alcun lavoro, poiché è un giorno di spiazione destinato a fare l'espiazione per voi davanti all'Eterno, che è l'Iddio vostro. Poiché ogni persona che non si umilierà in quel giorno sarà sterminata di fra il popolo. Ogni persona che farà in quel giorno qualsivoglia lavoro, io la distruggerò di fra il suo popolo. Non farete alcun lavoro, è una legge perpetua, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Sarà per voi un sabato di completo riposo, e umilierete le vostre anime, e il nono giorno del mese, dalla sera alla sera seguente, celebrerete il vostro sabato. L'Eterno parlo ancora a Mosè dicendo, parla ai figlioli di Israele di loro, il quindicesimo giorno di questo settimo mese sarà la festa delle capanne, durante sette giorni in onore dell'Eterno. Il primo giorno vi sarà una santa convocazione, non farete alcuna opera servile. Per sette giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici mediante il fuoco, e l'ottavo giorno avrete una santa convocazione e offrirete all'Eterno dei sacrifici mediante il fuoco. È il giorno di solenne radunanza, non farete alcuna opera servile. Queste sono le solennità dell'Eterno che voi bandirete come sante convocazioni perché si offrono all'Eterno sacrifici mediante il fuoco, olocausti, obbliazioni, vittime e libazioni. Ogni cosa ha il giorno stabilito, oltre ai sabati dell'Eterno, oltre ai vostri doni, oltre a tutti i vostri voti e tutte le offerte volontarie che presenterete all'Eterno. Ora, il quindicesimo giorno del settimo mese, quando avrete raccolto i frutti della terra, celebrerete una festa all'Eterno durante sette giorni. Il giorno primo sarà di completo riposo, l'ottavo di completo riposo. Il primo giorno prenderete del frutto degli alberi d'adornamento rami di palma, rami della versura, foltre dei salci, dei torrenti, e vi rallegrerete dinanzi all'Eterno che le Dio vostro durante sette giorni. Celebrerete questa festa in onore dell'Eterno per sette giorni ogni anno. È una legge perpetua di generazione in generazione. Là celebrerete il settimo mese e dimorerete in capanne durante sette giorni. «Tutti quelli che saranno nativi di Israele dimoreranno in capanne, affinché i vostri discendenti sappiano che io fesci di morare in capanne i figlioli di Israele quando li trassi fuori dal paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, l'Idio vostro». Così Mosè dette ai figlioli di Israele le istruzioni relative alle solennità dell'Eterno. Levitico capitolo ventiquattresimo L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo «Ordina ai figlioli di Israele che ti portino dell'olio di oliva puro, vergine, per il candelabro, per tenere le lampade continuamente accese. Aronne lo prenderà nella tenda di convegno fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, perché le lampade ardano del continuo dalla sera al mattino davanti all'Eterno. È una legge perpetua di generazione in generazione. Egli le disporrà sul candelabro d'oro puro, perché ardano del continuo davanti all'Eterno. Prenderai pure del fior di farina, e ne farai cuocere dodici focacce, ogni focaccia sarà di due decimi defa. Le metterai in due file, sei per fila, sulla tavola d'oro puro davanti all'Eterno, e porrai dell'incenso puro sopra ogni fila, e sarà sul pane come una ricordanza, come un sacrificio fatto mediante il fuoco dell'Eterno. Ogni giorno di sabato si disporranno i pani davanti all'Eterno del continuo, saranno forniti dai figlioli di Israele, è un patto perpetuo. I pani apparteranno ad Aronne e ai suoi figlioli, ed essi li mangeranno in luogo santo, poiché saranno per loro cosa santissima tra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. È una legge perpetua. Ora, il figliolo di una donna israelita e di un figliolo egiziano uscì tra i figlioli di Israele, e fra questo figliolo della donna israelita e un'israelita nacque una lite. Il figliolo della donna israelita vestemmiò il nome dell'Eterno e lo maledisse, onde fu condotto a Mosè. La madre di quel tale si chiamava Shelomit, figliola di libri della tribù di Dan. Lo misero in prigione finché fosse deciso che cosa fare per l'ordine dell'Eterno. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, Mena quel bestemmiatore fuori del campo, e tutti quelli che l'hanno dito possino le mani sul suo capo, e tutta la radunanza lo lapidi. E parla ai figlioli di Israele e di loro, Chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato, e chi bestemmirà il nome dell'Eterno dovrà essere messo a morte, tutta la radunanza lo dovrà lapidare. Sia straniero o nativo del paese, quando bestemi il nome dell'Eterno sarà messo a morte. Chi percuote mortalmente un uomo qualsivoglia dovrà essere messo a morte, chi percuote a morte un capo di bestiame lo pagherà, vita per vita. Quando uno avrà fatto una lesione al suo prossimo, gli sarà fatto come gli ha fatto, frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente. Gli si farà la stessa lesione che gli ha fatta all'altro. Chi uccide un capo di bestiame lo pagherà, ma chi uccide un uomo sarà messo a morte. Avrete una stessa legge, tanto per il forestiero, quanto per il nativo del paese, poiché io sono l'Eterno, lì Dio vostro. E Mosè parlò ai figlioli di Israele, i quali trassero quel bestemmiatore fuori del campo, e lo lapidarono. Così i figlioli di Israele fecero quello che l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Levitico capitolo venticinquesimo L'Eterno parlò ancora a Mosè sul monte Sinai, dicendo, Parla ai figlioli di Israele e di loro. Quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato all'Eterno. Per sei anni seminerai il tuo campo, per sei anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti, ma il settimo anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore dell'Eterno. Non seminerai il tuo campo, né poterai la tua vigna. Non mieterai quello che nascerà da sé, dal seme caduto nella sua raccolta precedente, e non vendemierai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, al tuo operario, al tuo forestiero che stanno con te, al tuo bestiame, agli animali che sono nel tuo paese, tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento. Conterai pure sette settimane d'anni, sette volte sette anni, e queste sette settimane d'anni ti faranno un periodo di quarantanove anni. Poi il decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba. Il giorno delle espiazioni farete squillare la tromba per tutto il paese. Santificherete il cinquantesimo anno, e proclamerete d'affrancamento nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo, ognuno di voi tornerà nella sua proprietà, e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo, non seminerete, non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé, e non vendemmierete le vigne che non potate. Poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro, mangerete il prodotto che vi verrà dai campi. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo. Se vendete qualcosa al vostro prossimo, o se comprate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al suo fratello. Regolerai la compra che farai dal tuo prossimo sul numero degli anni passati dall'ultimo giubileo, e quelli venderà a te in ragione degli anni di rendita. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo, e quanto minore sarà il tempo, tanto calerai il prezzo, poiché quelli ti vende il numero delle raccolte. Nessun di voi danneggi il suo fratello, ma temerai il tuo Dio, poiché io sono l'Eterno lì Dio vostro. Voi, metterete in pratica le mie leggi, e osserverete le mie prescrizioni, e le adempirete, e abiterete il paese in sicurtà. La terra produrrà i suoi frutti, voi le mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà. Se dite, che mangeremo il settimo anno, giacché non semineremo, e non faremo la nostra raccolta, io disporrò che la mia benedizione venga su voi il sesto anno, ed esso vi darà una raccolta per tre anni. L'ottavo anno seminerete e mangerete della vecchia raccolta, fino al nono anno, e mangerete della raccolta vecchia, finché sia venuta la nuova. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia, e voi siete da me come forestieri avventizi. Perciò, in tutto il paese che sarà vostro possesso, concederete il diritto di riscatto del suolo. Se il tuo fratello diventa povero, e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che il suo fratello ha venduto. E se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate scorse dalla vendita, renderà il soprappiù al compratore, e rientrerà così nel suo. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all'anno del giubileo. Al giubileo sarà cosa franca, ed egli rientrerà nel suo possesso. Se uno vende una casa da abitare in una città murata, avrà il diritto di riscatto fino al compimento di un anno dalla vendita, e il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. Ma se quella casa posta in una città murata non è riscattata prima del compimento di un anno intero, rimarrà in perpetuo proprietà del compratore e dei suoi discendenti, e non sarà franca al giubileo. Però, le case dei villaggi, non attorniati da mura, saranno considerate come parte dei fondi di terreno, potranno essere riscattate, e al giubileo saranno franche. Quanto alle città dei leviti e alle case che essi possederanno, i leviti avranno diritto perpetuo di riscatto, e se anche uno dei leviti ha fatto il riscatto, la casa venduta con la città dove si trova sarà franca al giubileo, perché le case delle città dei leviti sono loro proprietà in mezzo ai figlioli di Israele. I campi situati nei dintorni delle città dei leviti non si potranno vendere, perché sono loro proprietà perpetua. Se il tuo fratello, che è presso di te, è impoverito, e i suoi mezzi vengono meno, tu lo sosterrai anche se forestiero e avventizio, onde possa vivere presso di te. Non trarre da lui interesse né utile, ma temi il tuo Dio, e viva il tuo fratello presso di te. Non gli darai il tuo denaro a interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne un utile. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ho tratto dal paese d'Egitto per darvi il paese di Cana, per essere il vostro Dio. Se il tuo fratello, che è presso di te, è impoverito, e si vende a te, non lo farai servire come uno schiavo, starà da te come un lavoratore, come un avventizio, ti servirà fino all'anno del giubileo, allora se ne andrà da te insieme coi suoi figlioli, e tornerà nella sua famiglia, e rientrerà nella proprietà dei suoi padri, poiché essi sono miei servi, che io trassi dal paese d'Egitto. Non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi, non lo dominerai con asprezza, ma temerai il tuo Dio. Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li prenderete dalle nazioni che vi circondano, da queste comprerete lo schiavo e la schiava, potrete anche comprarne tra i figlioli degli stranieri stabiliti fra voi, e fra le loro famiglie che si troveranno tra voi, tra i figlioli che si avranno generato nel vostro paese, e saranno vostra proprietà, e li potrete lasciare in eredità i vostri figlioli dopo di voi come loro proprietà, vi servirete di loro come di schiavi in perpetuo, ma quanto ai vostri fratelli, i figlioli di Israele, nessuno di voi dominerà l'altro con asprezza. Se un forestiero stabilito presso di te arricchisce, e il tuo fratello diviene povero presso di lui, e si vende al forestiero stabilito presso di te, o a qualcuno della famiglia del forestiero, dopo che si sarà venduto potrà essere riscattato, lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli, lo potrà riscattare suo zio o il figliolo del suo zio, lo potrà riscattare uno dei parenti dello stesso suo sangue, o, se hai mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé. Farà il conto del suo compratore dall'anno che gli si è venduto all'anno del giubileo, e il prezzo da pagare si regolerà secondo il numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un lavoratore. Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il suo riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato. Se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il conto col suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. Starà da lui come un lavoratore fissato annualmente. Il padrone non lo dominerà con asprezza sotto i tuoi occhi, e, se non è riscattato in alcuno di questi modi, se ne uscirà libero l'anno del giubileo, egli coi suoi figlioli, poiché figlioli di Israele sono servi miei, sono miei servi che ho tratto dal paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, il Liddio vostro. Levitico capitolo ventisesimo Non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collegherete nel vostro paese alcuna pieta ornata di figure per prostarvi davanti ad essa, poiché io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Se vi conducete secondo le mie leggi, se osserveate i miei comandamenti e li mettete in pratica, io vi darò le piogge nella loro stagione, la terra darà i suoi prodotti, e gli alberi della campagna daranno i loro frutti. La trebbiatura vi durerà fino alla vendemmia, e la vendemmia vi durerà fino alla sementa, e mangerete a sazietà il vostro pane, e abiterete in sicurtà il vostro paese. Io farò che la pace regni nel paese, voi vi coricherete, e non ci sarà chi vi spaventi. Farò sparire dal paese le bestie nocive, e la spada non passerà più per il vostro paese. Voi inseguirete i vostri nemici, ed essi cadranno dinanzi a voi per la spada. Cinque di voi ne inseguiranno cento, cento di voi ne inseguiranno diecimila, e i vostri nemici cadranno dinanzi a voi per la spada. Io mi volgerò verso voi, vi renderò fecondi, e vi moltiplicherò, e riaffermerò il mio patto con voi, e voi mangerete delle raccolte vecchie, serbate a lungo, e trarrete fuori la raccolta vecchia, per far posta la nuova. Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi, e l'anima mia non vi abborrà. Camminerò tra voi, sarò il vostro Dio, e voi sarete il mio popolo. Io sono l'Eterno, l'Idio vostro, che vi ho tratto dal paese d'Egitto, affinché non foste più schiavi. Ho spezzato il vostro gioco, e vi ho fatto camminare a testa alta. Ma se non mi date ascolto, e se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate le mie leggi, e l'anima vostra disdegna le mie prescrizioni in guisa, che non mettiate in pratica i miei comandamenti, e rompiate il mio patto, ecco quel che vi farò a mia volta. manderò contro di voi il terrore, la consumazione e la febbre, che vi faranno venire meno agli occhi e languir l'anima, e seminerete in vano la vostra sementa. La mangeranno i vostri nemici. Volgerò la mia faccia contro di voi, voi sarete sconfitti dai vostri nemici, quelli che vi odiano vi domineranno, e vi darete alla fuga senza che alcuno vi insegua. Se, nemmeno dopo questo, vorrete darmi ascolto, io vi castigherò sette volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la superbia della vostra forza, farò che il vostro cielo sia come di ferro, e la vostra terra come di rame. La vostra forza vi consumerà in vano, poiché la vostra terra non darà i suoi prodotti, e gli alberi della campagna non daranno i loro frutti. E se mi resistete con la vostra condotta, e non volete darmi ascolto, io vi colpirò sette volte di più secondo i vostri peccati. Manderò contro di voi fiere della campagna, che vi rapiranno i figlioli, stermineranno il vostro bestiame, vi ridurranno in un piccolo numero, e le vostre strade diverranno deserte. E se nonostante questi castighi non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resistete, anch'io vi resisterò, e vi colpirò sette volte di più per i vostri peccati, e farò venire contro di voi la spada, l'indice del mio patto. Voi vi raccoglierete nelle vostre città, ma io manderò in mezzo a voi la peste, e sarete dati in man del nemico. Quando vi toglierò il pane che sostiene, dieci donne cuoceranno il vostro pane in uno stesso forno, vi distribuiranno il vostro pane appeso, e mangerete, ma non vi sazierete. E se nonostante tutto questo non volete darmi ascolto, ma con la vostra condotta mi resistete, anch'io vi resisterò con furore, e vi castigherò sette volte di più per i vostri peccati. Mangerete la carne dei vostri figlioli, e mangerete la carne delle vostre figliole. Io devasterò i vostri alti luoghi, distruggerò le vostre statue consacrate al sole, metterò i vostri cadaveri su cadaveri dei vostri idoli, e l'anima mia vi abborrà. E ridurrò le vostre città in deserti, desolerò i vostri santuari, e non aspirerò più il soave odore dei vostri profumi. Desolerò il paese, e i vostri nemici che vi abiteranno ne saranno stupefatti. E quando a voi, io vi disperderò tra le nazioni, e vi darò dietro a spada tratta, il vostro paese sarà desolato, e le vostre città saranno deserte. Allora la terra si godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà desolata, e che voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà e si godrà i suoi sabati, e per tutto il tempo che rimarrà desolata avrà il riposo che non ebbe nei vostri sabati quando voi l'abitavate. Quanto ai superstiti fra voi, io renderò pusillanime il loro cuore nel paese dei loro nemici, il rumore d'una foglia agitata li metterà in fuga, fuggiranno come si fugge dinanzi alla spada e cadranno senza che alcuno li insegua, precipiteranno l'uno sopra l'altro come davanti alla spada senza che alcuno li insegua, e voi non potrete resistere dinanzi ai vostri nemici. E perirete fra le nazioni, e il paese dei vostri nemici vi devorerà. I superstiti fra voi si istruggeranno nei paesi dei loro nemici a motivo delle proprie iniquità, e si istruggeranno pure a motivo dell'iniquità dei loro padri, e confesseranno la loro iniquità e l'iniquità dei loro padri, l'iniquità delle trasgressioni commesse contro di me, e della resistenza oppostami, peccati per i quali anch'io avrò dovuto resister loro e menarli nel paese dei loro nemici. Ma se allora il cuor loro incirconciso si umilerà, e se accetteranno la punizione della loro iniquità, io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe, mi ricorderò del mio patto con Isacco e del mio patto con Abramo, e mi ricorderò del paese, poiché il paese sarà abbandonato da loro, e si godrà i suoi sabati, mentre rimarrà desolato senza di loro. Ed essi accetteranno la punizione della loro iniquità per aver disprezzato le mie prescrizioni e aver avuto in avversione le mie leggi. E, nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò e non li prenderò in avversione fino al punto di annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro, poiché io sono l'Eterno e il loro Dio, ma per amor d'essi mi ricorderò del patto stretto con loro antenati e i quali trassi dal paese d'Egitto nel cospetto delle nazioni per essere il loro Dio. Io sono l'Eterno. Tali sono gli statuti, le prescrizioni, le leggi che l'Eterno stabilì fra sé e i figlioli di Israele sul monte Sinai per mezzo di Mosè. Levitico capitolo ventisettesimo L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ai figlioli di Israele di loro, quando uno farà un voto concernente delle persone, queste persone apparterranno all'Eterno, secondo la valutazione che ne farai, e la tua stima sarà per un maschio dai venti ai sessant'anni cinquanta sicli d'argento secondo il ciclo del santuario. Se si tratta di una donna, la tua stima sarà di trenta sicli, dai cinque ai vent'anni, la tua stima sarà di venti sicli per un maschio e di dieci sicli per una femmina. Da un mese a cinque anni la tua stima sarà di cinque sicli d'argento per un maschio e di tre sicli d'argento per una femmina. Da sessant'anni in su, la tua stima sarà di quindici sicli per un maschio e di dieci sicli per una femmina. E se colui che ha fatto il voto è troppo povero per pagare la somma fissata da te, lo si farà presentare al sacerdote il quale lo tasserà. Il sacerdote farà una stima in proporzione dei mezzi di colui che ha fatto il voto. Se si tratta di animali che possono essere presentati come offerta all'eterno, ogni animale che si darà all'eterno sarà cosa santa. Non lo si dovrà cambiare, non se ne metterà uno buono al posto di uno cattivo o uno cattivo al posto di uno buono e seppure uno sostituisce un animale all'altro, ambedue gli animali saranno cosa sacra. E se si tratta di animali impuri di cui non si può fare l'offerta all'eterno, l'animale sarà presentato davanti al sacerdote e il sacerdote ne farà la stima secondo che l'animale sarà buono o cattivo e uno se ne starà alla stima fatta dal sacerdote. Ma se uno lo vuol riscattare, aggiungerà un quinto alla sua stima. Se uno consacra la sua casa per essere cosa santa all'eterno, il sacerdote ne farà la stima secondo che essa sarà buona o cattiva e uno ne starà la stima fatta dal sacerdote e se colui che ha consacrato la sua casa la vuol riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della stima e sarà sua. Se uno consacra all'eterno un pezzo di terra della sua proprietà, ne farà la stima in ragione alla sementa, cinquanta sicli d'argento per un omer di seme d'orso. Se consacra la sua terra dell'anno del giubileo, il prezzo ne resterà fissato secondo la tua stima, ma se la consacra dopo il giubileo, il sacerdote ne valuterà il prezzo in ragione del numero degli anni che rimangano fino al giubileo e si farà una detrazione dalla tua stima. E se colui che ha consacrato il pezzo di terra lo vuol riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della tua stima e resterà suo. Ma se non riscatta il pezzo di terra o lo vende ad un altro, non lo si potrà più riscattare ma quel pezzo di terra quando rimarrà franco al giubileo sarà consacrato all'eterno come una terra interdetta e diventerà proprietà del sacerdote. Se uno consacra all'eterno un pezzo di terra che gli ha comprato e che non fa parte della sua proprietà, il sacerdote ne valuterà il prezzo secondo la stima fino all'anno del giubileo e quel tale pagherà il giorno stesso il prezzo fissato giacché cosa consacrata all'eterno l'anno del giubileo la terra tornerà colui da cui fu comprata e del cui patrimonio faceva parte tutte le tue stime si faranno in cicli del santuario il ciclo è di venti ghere però nessuno potrà consacrare primogeniti del bestiame i quali appartengono già all'eterno perché primogeniti sia un bue sia un agnello appartiene all'eterno e se si tratta di un animale impuro lo si riscatterà al prezzo della tua stima aggiungendovi un quinto se non è riscattato sarà venduto al prezzo della tua stima non di meno tutto ciò che uno avrà consacrato all'eterno per voto di interdetto di fra le cose che gli appartengono sia che si tratti di una persona di un animale di un pezzo di terra del suo patrimonio non potrà essere né venduto né riscattato ogni interdetto è cosa interamente consacrata all'eterno nessuna persona consacrata per voto di interdetto potrà essere riscattata dovrà essere messa a morte ogni decima della terra sia delle raccolte del suolo sia dei frutti degli alberi appartiene all'eterno è cosa consacrata all'eterno se uno vuol riscattare una parte della sua decima vi aggiungerà il quinto e ogni decima dell'armento del greggio e il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore sarà consacrata all'eterno non si farà distinzione fra animale buono e cattivo e non si faranno sostituzioni e se si sostituisce un animale all'altro ambe due saranno cosa sacra e non si potranno riscattare questi sono i comandamenti che l'eterno diede a Mosè per i figlioli di Israele sul monte Sinai di Israele